Primo Libro dei Re Capitolo I Cercarono dunque per tutto il paese di Israele una bella fanciulla, e trovarono Abishag la sunamita, e la menarono dal re. La fanciulla era bellissima, aveva cura del re e lo serviva, ma il re non la conobbe. Or Adonisia, figliolo di Agit, mosso dall'ambizione, diceva, Sarò io il re. E si preparò dei carri, dei cavalieri, cinquanta uomini che corressero dinanzi a lui. Suo padre non gli aveva mai fatto un rimprovero in vita sua, dicendogli, Perché fai così? Adonisia era anche egli di bellissimo aspetto, ed era nato subito dopo Absalom. Egli si abboccò con Joab, figliolo di Zeruia, e col sacerdote Abiatar, e quelli seguirono il suo partito e lo favorirono. Ma il sacerdote Zadok, Benaia, figliolo di Jehoiada, il profeta Natam, Shimei, lei, e gli uomini prodi di Davide, non erano per Adonisia. Adonisia immolò pecore, buò i vitelli grassi vicino al masso di Zoelet, che è accanto alla fontana di Rogher, e invitò tutti i suoi fratelli, figlioli del re, e tutti gli uomini di Giuda, che erano al servizio del re. Ma non invitò il profeta Natam, né Benaia, né gli uomini prodi, né Salomone, suo fratello. Allora Natam parlò a Baceba, madre di Salomone, e le disse, Non hai udito che Adonisia, figliolo di Agit, è diventato re, senza che Davide, nostro Signore, ne sappia nulla? Ordunque vieni, e permetti che io ti dia un consiglio, affinché tu salvi la tua vita e quella del tuo figliolo Salomone. Va, entra dal re Davide e digli, o re mio Signore, non giurasti tu alla tua serva, dicendo, Salomone tuo figliolo regnerà dopo di me e sederà sul mio trono? Perché dunque regna Adonisia? Ed ecco che mentre tu starai ancora qui vi parlando col re, io entrerò dopo di te e confermerò le tue parole. Baceba entrò dunque nella camera del re, e il re era molto vecchio, e Abishag la Sunamita lo serviva. Baceba si inchinò e si prostrò davanti al re, e il re disse, Che vuoi? Essa gli rispose, Signor mio, tu alla tua serva giurasti per l'Eterno, che è il tuo Dio, dicendo, Salomone tuo figliolo regnerà dopo di me e sederà sul mio trono. E intanto ecco che Adonisia è diventato re senza che tu, o re mio Signore, ne sappia nulla. Ed ha immolato buoi, vitelli, grassi e pecore in gran numero, e ha invitato tutti i figlioli del re, il sacerdote Abiatar e Gioab, il capo dell'esercito, ma non ha invitato il tuo servo Salomone. Ora, gli occhi di tutto Israele sono rivolti verso di te, o re mio Signore, perché tu gli dichiari chi debba essere sul trono del re mio Signore dopo di lui. Altrimenti avverrà che, quando il re mio Signore giascerà con i suoi padri, io e il mio figliolo Salomone saremo trattati come colpevoli. Mentre ella parlava ancora col re, ecco arrivare il profeta Natan. La cosa fu riferita al re dicendo, ecco il profeta Natan, e questi venne in presenza del re e gli si prostrò dinnanzi con la faccia a terra. Natan disse, o re mio Signore, hai tu detto, Adonisia regnerà dopo di me e sederà sul mio trono? Già che oggi egli è sceso, ha immolato buoi, vitelli ingrassati e pecore in gran numero, ha invitato tutti i figlioli del re, i capi dell'esercito e il sacerdote Abiatar, ed ecco che manciano e bevano davanti a lui, e dicano, viva il re Adonisia! Ma egli non ha invitato me, tuo servo, né il sacerdote Zadok, né Benaia, figliolo di Gioiada, né Salomone, tuo servo. Questa cosa è la propria stata fatta dal re mio Signore, senza che tu abbia dichiarato al tuo servo chi sia quelli che deve sedere sul trono del re mio Signore dopo di lui? Il re Davide rispondendo disse, chiamatemi Baceba. Ella entrò alla presenza del re e si tenne in piedi davanti a lui. E il re girò e disse, com'è vero che vive l'Eterno il quale ha liberato l'anima mia da ogni distretta. Io farò oggi quello che ti giurai per l'Eterno, per il Dio di Israele, dicendo, Salomone, tuo figliuolo, regnerà dopo di me, e sederà sul mio trono invece mia. Baceba si inchinò con la faccia a terra, si prostò dinanzi al re e disse, possa il re Davide, mio Signore, vivere in perpetuo. Poi il re Davide disse, chiamatemi il sacerdote Zadok, il profeta Natan e Benaia, figliolo di Gioiada. Essi vendero in presenza del re e il re disse loro, prendete con voi i servi del vostro Signore, fate montare Salomone mio figliuolo sulla mia mula e menatelo giù a Gibeon. E qui vi il sacerdote Zadok, il profeta Natan, lo ungeranno re di Israele. Poi suonate la tromba e dite, viva il re Salomone. Voi risalirete al suo seguito, ed egli verrà e si porrà sedere sul mio trono e regnerà in mia vece. Io costituisco lui come principe di Israele e di Giuda. Benaia, figliolo di Gioiada, rispose al re, Amen, così voglia l'Eterno, lì Dio del re mio Signore. Come l'Eterno è stato col re mio Signore, così sia con Salomone e innanzi al suo trono al di sopra del trono di re Davide mio Signore. Allora il sacerdote Zadok, il profeta Natan, Benaia, figliuolo di Gioiada, i Keretei e i Peletei, scessero, fecero montare Salomone sulla mula del re Davide, e lo menarono a Gibeon, e il sacerdote Zadok prese il corno dell'olio dal tabernacolo, e unse Salomone. Suonarono le trombe, e tutto il popolo disse, Viva il re Salomone! E tutto il popolo risalì al suo seguito suonando flauti e abbandonandosi a una gran gioia, sì che la terra rimbombava dalle loro grida. Adonisia e tutti i suoi convitati, come stavano per finir di mangiare, udirono questo rumore. E quando Gioab udì il suono delle trombe, disse, Che vuol dir questo strepito nella città? È la città in tumulto? E mentre gli parlava ancora, ecco giungere Gionatan, figliuolo del sacerdote Abiatar. Adonisia gli disse, Entra, poiché tu sei un uomo di valore, e devi recar buone novelle. E Gionatan rispondendo ad Adonisia disse, Tutt'altro, il re Davide, nostro signore, ha fatto re Salomone. Egli ha mandato con lui il sacerdote Tzadok, il profeta Natan, Benaia figliuolo di Jeoiada, i Chiretei, i Peletei, i quali hanno fatto montare sulla mula del re, e il sacerdote Tzadok e il profeta Natan l'hanno unto re Agiveon, e di là sono risalite abbandonandosi alla gioia e la città ne è tutta sottosopra. Questo è lo strepitio che avete udito, e c'è di più. Salomone si è posto a sedere sul trono reale, e i servi del re sono venuti a benedire il re Davide, signor nostro, dicendo, Renda il Dio il nome di Salomone più glorioso del tuo, e innalzi il suo trono al di sopra del tuo, e il re si è prostrato dal suo letto. Poi il re ha detto così, Benedetto sia l'Eterno, l'Idio di Israele, che mi ha dato oggi uno che segga sul mio trono, e ha permesso di vederlo con i miei propri occhi. Allora tutti i convitati di Adonigia furono presi da spavento, si alzarono, e se ne andarono ciascuno per il suo cammino, e Adonigia, avendo timore di Salomone, si levò e andò a impugnare i corni dell'altare. E vennero a dire a Salomone, Ecco, Adonigia ha timore del re Salomone, ed ha impugnato i corni dell'altare, dicendo, Il re Salomone mi giuri oggi che non farà morire di spade il suo servo. Salomone rispose, Se egli sia dimostra un uomo da bene, non cadrà in terra neppure uno dei suoi capelli. Ma se sarà trovato in fallo, morrà. Il re Salomone mandò gente a farlo scendere dall'altare, ed egli venne a prostrarsi dinnanzi al re Salomone, e Salomone gli disse, Vattene a casa tua. Primo re, capitolo secondo Or avvicinandosi per Davide il giorno della morte, egli diede i suoi ordini a Salomone suo figliuolo, dicendo, Io me ne vo per la via di tutti gli abitanti della terra, fortificati e portati da uomo. Osserva quello che l'Eterno, il tuo Dio, t'ha comandato ad osservare, camminando nelle sue vie, e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, secondo che è scritto nella legge di Mosè, affinché tu riesca in tutto ciò che farai, e dovunque tu ti volga, affinché l'Eterno adempia la parola da Lui pronunciata a mio riguardo, quando disse, Se i tuoi figlioli veglieranno sulla loro condotta, camminando nel mio cospetto con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che segga sul trono di Israele. Sai, anche tu quello che m'ha fatto Joab, figliolo di Tessuria, quel che ha fatto ai due capi degli eserciti di Israele, ad Abner, figliolo di Ner, ad Amasa, figliolo di Jeter, i quali egli uccise spargendo in tempo di pace sangue di guerra, e macchiando di sangue la cintura che portava ai fianchi e i calzari che portava ai piedi. Agisci dunque secondo la tua saviezza, e non lasciare la sua canizia scendere in pace nel soggiorno dei morti, ma tratta con bontà i figlioli di Barzilai e Galadita, e siano fra quelli che mangiano la tua mensa, poiché così anch'essi mi trattarono quando vennero da me, allorché io fuggivo dinnanzi ad Absalom, tuo fratello. Ed ecco, tu hai vicino a te Shimei, figliolo di Gera, il beniaminita di Baurim, il quale proferì contro di me una maledizione atroce il giorno che andavo a Mahanaim, ma egli scese ad incontrarmi verso il Giordano, ed io gli giurai per l'Eterno che non lo farei morire di spada. Ma ora non lo lasciare impunito, poiché sei savio per conoscere quel che tu debbi a fargli, e farai scendere tinta di sangue la sua canizia nel suo giorno dei morti. E Davide si addormentò coi suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. Il tempo che Davide regnò sopra Israele fu di quarant'anni, regnò sette anni a Hebrom, e trentatré anni a Gerusalemme. E Salomone si assise sul trono di Davide suo padre, e il suo regno fu saldamente stabilito. Or Adonisia, figliolo di Agit, venne da Bathsheba, madre di Salomone. Questa gli disse, vieni tu con intenzioni pacifiche? Egli rispose, sì, pacifiche. Poi aggiunse, ho da dirti una parola. Quella rispose, di pure. Ed egli disse, tu sai che il regno mi apparteneva, e che tutto Israele mi considerava come suo futuro re. Ma il regno è stato trasferito, e fu fatto passare a mio fratello, perché glielo ha dato l'Eterno. Or dunque, io ti domando una cosa, non me la rifiutare. Ed egli rispose, di pure. Ed egli disse, ti prego, di al re Salomone, il quale nulla ti negherà, che mi dia Abishag la sumanita per moglie. Bathsheba rispose, sta bene, parlerò al re in tuo favore. Bathsheba dunque si recò dal re Salomone per parlargli in favore di Adonisia, e il re si alzò per andarle incontro, le si inchinò, poi si pose a sedere sul suo trono, e fece mettere un altro trono per sua madre, la quale si assise alla sua destra. Ella gli disse, ho una piccola cosa da chiederti, ma non me la negare. Il re rispose, chiedila pure, madre mia, io non te la negherò. Ed ella, dia si Abishag la sumanita al tuo fratello Adonisia per moglie. Il re Salomone, rispondendo a sua madre, disse, e perché chiedi tu Abishag la sumanita per Adonisia? Chiedi piuttosto il regno per lui, giacché egli è mio fratello maggiore. Chiedilo per lui, per il sacerdote Abiatar, per Joab, figliolo di Zeruia. Allora il re Salomone girò per l'Eterno, dicendo, I Dio mi tratti con tutto il suo rigore, se Adonisia non ha preferito questa parola a costo della sua vita. Ed ora, com'è vero che vive l'Eterno, il quale m'ha stabilito e m'ha fatto sedere sul trono di Davide mio padre, e m'ha fondato una casa come aveva promesso, oggi Adonisia sarà messo a morte. E il re Salomone mandò Benaia, figliolo di Geo, o Iada, il quale s'avventò addosso ad Adonisia, sì che morì. Poi il re disse al sacerdote Abiatar, Vattene ad Anatot, nelle tue terre, poiché tu meriti la morte, ma io non ti farò morire oggi, perché protasti Davide a Davide mio padre, e l'arca del Signore dell'Eterno, e perché partecipasti a tutte le sofferenze di mio padre. Così Salomone depose Abiatar dalle funzioni di sacerdote dell'Eterno, adempiendo così la parola che l'Eterno aveva pronunziato contro la casa di Eli a Scilo. E la notizia ne giunse a Job, il quale aveva seguito il partito di Adonisia, benché non avesse seguito quello di Absalom. Egli si rifugiò nel tabernacolo dell'Eterno e impugnò i corni dell'altare, e fu detto al re Salomone, Job si è rifugiato nel tabernacolo dell'Eterno e sta presso all'altare. Allora Salomone mandò Benahia, figliolo di Gioiada, dicendogli, va, avventati contro di lui. E Benahia entrò nel tabernacolo dell'Eterno e disse a Job, Così dice il re, vieni fuori. Quelli rispose, no, voglio morire qui. E Benahia riferì la cosa al re dicendo, Così ha parlato Job e così ha risposto. E il re gli disse, fa come egli ti ha detto, avventati contro di lui, e seppelliscilo così toglierai da dosso a me e alla casa di mio padre il sangue che Job sparse senza motivo. E l'Eterno farà ricadere sul capo di lui il sangue che egli sparse quando s'avventò contro due uomini più giusti e migliori di lui e li uccise di spada senza che Davide mio padre ne sapesse nulla. Abner, figliolo di Ner, capitano dell'esercito di Israele, e Amasa, figliolo di Jeter, capitano dell'esercito di Giuda. Il loro sangue ricadrà sul capo di Job e sul capo della sua progenie in perpetuo, ma vi sarà pace per sempre da parte dell'Eterno per Davide, per la sua progenie, per la sua casa e per il suo trono. Allora Benahia, figliolo di Gioiada, salì, s'avventò contro a lui e lo mise a morte, e Job fu sepolto in casa sua nel deserto. E invece sua, il re fece capo dell'esercito Benahia, figliolo di Gioiada, e mise il sacerdote Tzadok al posto di Abiatar. Poi il re mandò a chiamare Shimei e gli disse, costruisciti una casa in Gerusalemme, provvedi di mora e non ne uscire più per andare qua o là, poiché il giorno che ne uscirai e passerai il torrente Kidron, sappi per certo che morrai, il tuo sangue ricadrà sul tuo capo. Shimei rispose al re, sta bene, e il tuo servo farà come il re mio signore ha detto. E Shimei dimorò lungo tempo a Gerusalemme. Di lì a tre anni avvenne che due servi di Shimei fuggirono presso Achis, figliolo di Maacca, re di Gath. La cosa fu riferita a Shimei e gli fu detto, ecco, i tuoi servi sono a Gath. E Shimei si levò, sellò il suo asino, e andò a Gath da Achis in cerca dei suoi servi. Andò e rimanò via da Gath i suoi servi. E fu riferito a Salomone che Shimei era andato da Gerusalemme a Gath ed era tornato. Il re mandò a chiamare Shimei e gli disse, «Non t'avevo io fatto giurare per l'Eterno e non t'avevo solennemente avvertito dicendoti sappi che per certo il giorno che uscirai per andare qua o là morrai e non mi rispondesti tu la parola che ho dita sta bene e perché dunque non hai mantenuto il giuramento fatto all'Eterno e non hai osservato il comandamento che t'avevo dato». Il re disse inoltre a Shimei, «Tu sai tutto il male che facesti a Davide, mio padre. Il tuo cuore ne è consapevole. Ora l'Eterno fa ricadere sul tuo capo la tua malvagità, ma il re Salomone sarà benedetto e il trono di Davide sarà reso stabile in perpetuo dinnanzi all'Eterno». Il re diede i suoi ordini a Benaia, figliolo di Goriada, il quale uscì, s'avventò contro Shimei che morì. Così rimase saldo il regno nelle mani di Salomone. Primo Re Capitolo Terzo Or Salomone si imparentò con Faraone re di Egitto, sposò la figliola di Faraone e l'amenò nella città di Davide finché avesse finito di edificare la sua casa, la casa dell'Eterno e le mura di Scinta di Gerusalemme. Intanto il popolo non offriva sacrifizi che sugli altri luoghi perché fino a quei giorni non era stata edificata casa al nome dell'Eterno. E Salomone amava l'Eterno e seguiva i precetti di Davide, suo padre, soltanto offriva sacrifizi e profumi sugli altri luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrirvi i sacrifizi perché quello era il principale fra gli alti luoghi e su quell'altare Salomone offerse mille olocausti. A Gabaon l'Eterno apparve di notte in sogno a Salomone e Dio gli disse chiedi quello che vuoi chi ti dia e Salomone rispose tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide mio padre perché egli camminava dinanzi a te con fedeltà e con giustizia con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservata questa gran benevolenza e gli hai dato un figliuolo che siede sul trono di lui come oggi avviene. Ora o Eterno o mio Dio tu hai fatto regnare me tuo servo in luogo di Davide mio padre e io non sono che un giovinetto e non so come condurmi e il tuo servo in mezzo al popolo che tu hai scelto popolo numeroso che non può essere contato né calcolato tanto è grande. Dà dunque al tuo servo un cuore intelligente onde egli possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male poiché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatta tale richiesta e Dio gli disse giacché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita né ricchezze e nella morte dei tuoi nemici ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto ecco io faccio secondo la tua parola ti do un cuor savio intelligente in guisa che nessuno è stato simile a te purlo innanzi e nessuno sorgerà simile a te in appresso e inoltre a questo io ti darò quello che non hai domandato ricchezze e gloria talmente che non vi sarà durante tutta la tua vita alcuno fra i re che possa esserti paragonato e se cammini nelle mie vie osservando le mie leggi i miei comandamenti come fece Davide tuo padre io prolungherò i tuoi giorni Salomone si svegliò ed ecco era un sogno tornò a Gerusalemme si presentò davanti all'arca del patto del Signore e offerse olocausti sacrifici di azioni di grazie e fece un convito a tutti i suoi servi allora due meretrici vennero a presentarsi davanti al re una delle due disse permetti signor mio io e questa donna abitavamo nella medesima casa io partorì nella camera dove la pure stava e il terzo giorno dopo che ebbi partorito io questa donna partorì anche ella noi stavamo insieme e non vela da noi alcun estraneo non c'eravamo che noi due sole in casa ora la notte passata il bimbo di questa donna morì perché gli si era coricata addosso ed essa alzandosi nel cuor della notte prese il mio figliolo d'accanto a me mentre la tua serva dormiva e lo posse a giacere sul suo seno e sul mio seno posse il suo figliolo morto e quando mi alzai la mattina per far poppare il mio figliolo ecco che era morto ma mirando meglio a giorno chiaro mi accorsi che non era mio figliolo quello che avevo partorito e l'altra donna disse no il vivo è mio figliolo e il morto è il tuo ma la prima replicò no invece il morto è il figliolo tuo e il vivo è il mio così altercarono in presenza del re allora il re disse una dice questo che è vivo è il mio e quello che è morto è il tuo e l'altra dice no invece il morto è figliolo tuo e il vivo è mio e il re soggiunse portatemi una spada e portarono una spada davanti al re e il re disse dividete il bambino vivo in due parti e datene la metà all'una e la metà all'altra allora la donna di cui era il bambino vivo sentendosi commuoverle viscere per amore del suo figliolo disse al re dè signor mio date a lei il bambino vivo e non l'uccidetelo no ma l'altra diceva non sia dato mio ne sia dato a te ma si divida allora il re rispondendo disse date a quella il bambino vivo e non l'uccidete e la madre del bambino è lei e tutto Israele udì parlare del giudizio che il re aveva pronunziato e temettero il re perché vedevano che la sapienza di Dio era in lui per amministrare la giustizia primo re capitolo quarto il re Salomone regnava su tutto Israele e questi erano i suoi principali ufficiali Azzaria figliolo del sacerdote Tzadok Elino Ref ed Ahija figliolo di Sheisa erano segretari Josaphat figliolo di Ahilud era cancelliere Benahia figliolo di Nathan era capo dell'esercito Tzadok e Abiatar erano sacerdoti Azzaria figliolo di Nathan era capo degli intendenti e Zabut figliolo di Nathan era consigliere intimo del re Aishar era maggiordomo e Adoniram figliolo di Abda era preposto ai tributi Salomone aveva dodici intendenti su tutto Israele i quali provvedevano al mantenimento del re della sua casa ciascuno d'essi doveva provvedervi per un mese l'anno or questi erano i loro nomi Ben Hur nella contrada montuosa di Efraim Ben Decker e Makatz a Shabin Beshemesh a Elong e Bet-Ana Bet-Eset a Arubot aveva Soko e tutto il paese di Efer Ben Abinadab in tutta la regione di Dor Tafat figliolo di Salomone era sua moglie Baanna figliolo da Elul aveva Tanek Magiddo e tutto Bet-Sheem che è presso Sarlat sotto Gisriel da Bet-Sheem a Bel-Meloa e fino al di là di Iokenam Ben-Gaber a Ramot di Galad egli aveva villaggi di Jair figliolo di Menasse che sono in Galad aveva anche la regione di Agob che è Basam 60 grandi città murate e munite di sbarre di rame a Inadab figliolo di Iddo a Manahim a Imatz in Neftali anche queste aveva preso per moglie Bashmat figliola di Salomone Baanna figliolo di Ushai in Ashe in Alot Giosafat figliolo di Parma a Isakar Shimei figliolo di Ela in Beniamino e in Geber figliolo di Uri nel paese di Galad il paese di Siom re degli Amorei e di Og re di Basam vera un solo intendente per tutta questa regione Giuda e Israele erano numerosissimi come la rena che sulla riva del mare essi mangiavano e bevevano allegramente e Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume fino al paese dei Filistei e fino ai confini d'Egitto essi gli recavano dei doni e gli furono soggetti tutto il tempo che egli visse or la provvisione di vivere di Salomone per tutto il giorno consisteva di trenta cori di fior di farina sessanta cori di farina ordinaria in dieci bovi ingrassati venti bovi di pastura e cento montoni senza contare i cervi le gazzelle i dani il pollame di stia e gli dominava su tutto il paese di qua dal fiume da Tifsa fino a Gaza su tutti i re di qua dal fiume ed era in pace con tutti i confinanti d'intorno e Giuda ed Israele da Dan fino a Bershiba vissero al sicuro ognuno all'ombra della sua vita e del suo fico tutto il tempo che regnò Salomone Salomone aveva pure quaranta mila greppie di cavalli per i suoi carri e dodicimila cavalieri e quegli intendenti un mese all'anno per l'uno provvedevano al mantenimento del re Salomone e di tutti quelli che si accostavano alla sua mensa e non lasciavano mancar nulla facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa nel luogo dove si trovava il re ciascuno secondo gli ordini che gli aveva ricevuti e Dio diede a Salomone sapienza una grandissima intelligenza e una mente vasta come l'arena che sta sulla riva del mare e la sapienza di Salomone superò la sapienza di tutti gli orientali e tutta la sapienza degli egiziani era più savio di ogni altro uomo più di Elat l'Ezeralita più di Ema di Calco di Darta figlioli di Maol e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circonvicine pronunziò tre mila massime e i suoi inni furono il numero di mille e cinque parlò degli alberi dal cedo del Libano e l'isoppo che spunta dalle muraglia parlò pure degli animali degli uccelli dei rettili dei pesci di tutti i popoli veniva gente per udire la sapienza di Salomone da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza primo libro dei re capitolo quinto or Iram re di Tiro avendo udito che Salomone era stato unto re in luogo di suo padre gli mandò i suoi servi perché Iram era sempre stato amico di Davide e Salomone mandò a dire a Iram tu sai che Davide mio padre non potei edificare una casa al nome dell'eterno del suo Dio a motivo delle guerre nelle quali fu impegnato da tutte le parti finché l'eterno non gli ebbe posti i suoi nemici sotto la pianta dei piedi ma ora l'eterno il mio Dio mi ha dato riposto d'ogni intorno io non ho più avversari né migrava alcuna calamità ho quindi l'intenzione di costruire una casa al nome dell'eterno dell'idio mio secondo la promessa che l'eterno fece a Davide mio padre quando gli disse il tuo figliuolo che io metterò sul trono in luogo di te sarà quello che edificherà una casa al mio nome or dunque da ordine che mi si taglino dei cedri del Libano i miei servi saranno insieme coi servi tuoi e io ti pagherò per salario dei tuoi servi tutto quello che domanderai poiché tu sai che non v'è alcuno fra noi che sappia tagliare i legname come quei di Sidone quando Iram ebbe udite le parole di Salomone ne provò una grande gioia e disse benedetto sia oggi l'eterno che ha dato a Davide un figliuolo savio per regnare sopra questo gran popolo e Iram andò a dire a Salomone ho udito quello che mi hai fatto dire io farò tutto quello che desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso i miei servi li porteranno dall'Ibano al mare e io li spedirò per mare su zattere fino al luogo che tu mi indicherai quindi li farò sciogliere e tu li prenderai e tu dal canto tuo farai quel che desidero io fornendo i viveri alla mia casa così Iram dette a Salomone del legname di cedro e del legname di cipresso quanto e ne volle Salomone dette a Iram ventimila cori di grano per il mantenimento della sua casa e venti cori d'olio vergine Salomone aveva questo dato a Iram anno per anno l'Eterno diede sapienza a Salomone come gli aveva promesso e vi fu pace fra Iram e Salomone e fecero fra di loro alleanza il re Salomone fece una comandata d'operai in tutto Israele e furono comandati trentamila uomini li mandava al Libano diecimila al mese alternativamente un mese stavano sul Libano e due mesi a casa Adoniram era proposto a questa comandata Salomone aveva inoltre settantamila uomini che portavano i pesi e ottantamila scalpellini sui monti senza contare i capi in numero di tremila trecento proposti da Salomone ai lavori e incaricati di dirigere gli operai il re comandò che si scavassero delle pietre grandi delle pietre di pregio per fare i fondamenti della casa con pietre da taglio gli operai di Salomone e gli operai di Iram e Ghibli tagliarono e prepararono il legname e le pietre per la costruzione della casa primo libro dei re capitolo sesto or il quattrocentottantesimo anno dopo l'uscita dei figlioli di Israele dal paese d'Egitto nel quarto anno del suo regno sopra Israele nel mese di Ziv che è il secondo mese Salomone cominciò a costruire la casa consacrata all'Eterno la casa che il re Salomone costruì per l'Eterno aveva sessanta cubiti di lunghezza venti di larghezza trenta di altezza il portico sul davanti del luogo santo della casa aveva venti cubiti di lunghezza rispondenti alla larghezza della casa dieci cubiti di larghezza sul fronte della casa e il re fece alla casa delle finestre e un reticolato fisso egli costruì a ridosso del muro della casa tutto intorno dei piani che circondavano i muri della casa del luogo santo e del luogo santissimo e fece delle camere laterali tutti intorno il piano inferiore era largo cinque cubiti quello di mezzo sei cubiti e il terzo sette cubiti perché gli aveva fatto delle sporgenze tutti intorno ai muri esterni della casa affinché le travi non fossero incastrate nei muri della casa per la costruzione della casa si servirono di pietre già approntate alla cava in guisa che nella casa durante la sua costruzione non si dì mai il rimore di martello d'ascia o d'altro strumento di ferro l'ingresso del piano di mezzo si trovava al lato destro della casa e per una scala chiocciola si saliva al piano di mezzo e dal piano di mezzo al terzo dopo aver finito di costruire la casa salomone la coperse di travi di assi di legno di cedro fece i piani addossati a tutta la casa dando ad ognuno cinque cubiti d'altezza e li collegò con la casa con delle travi di cedro e la parola dell'eterno fu rivolta a salomone dicendo quanto a questa casa che tu edifichi se tu cammini secondo le mie leggi se metti in pratica i miei precetti e osservi i segni tutti i miei comandamenti io confermerò in tuo favore la promessa che fece a davide tuo padre abiterò in mezzo ai figliori di israele e non abbandonerò il mio popolo israele quando salomone ebbe finito di costruire la casa ne rivestì le pareti interne di tavole di cedro dal pavimento sino alla travatura del tetto rivestì così di legno l'interno e coperse il pavimento della casa di tavole di cipresso rivestì di tavole di cedro uno spazio di venti cubiti in fondo alla casa dal pavimento al soffitto e riservò quello spazio interno per farne un santuario il luogo santissimo i quaranta cubiti sul davanti formavano la casa vale a dire il tempio il legno di cedro nell'interno della casa presentava delle sculture di colloquintite di fiori sbocciati tutto era di cedro e non si vedeva pietra salomone stabilì il santuario nell'interno in fondo alla casa per collocarvi l'arca del patto dell'eterno il santuario aveva venti cubiti di lunghezza venti cubiti di larghezza e venti cubiti d'altezza salomone lo ricoprì d'oro finissimo e davanti al santuario fece un altare di legno di cedro e lo ricoprì d'oro salomone ricoprì d'oro finissimo l'interno della casa e fece passare un velo per mezzo di catenelle d'oro davanti al santuario che ricoprì d'oro ricoprì d'oro tutta la casa tutta quanta la casa e ricoprì pur d'oro tutto l'altare che apparteneva al santuario e fece nel santuario due cherubini di legno d'olivo dell'altezza di dieci cubiti ciascuno l'una delle ali di un cherubino misurava cinque cubiti e l'altra pure cinque cubiti e che facevano dieci cubiti dalla punta di un'ala alla punta dell'altra e il secondo cherubino era parimente di dieci cubiti ambedue i cherubini erano delle stesse dimensioni e della stessa forma l'altezza dell'uno dei cherubini era di dieci cubiti e tale era l'altezza dell'altro e Salomone pose i cherubini in mezzo alla casa nell'interno i cherubini avevano le ali spiegate in guisa che l'ala del primo toccava una delle pareti e l'ala del secondo toccava l'altra pareti le altre ale si toccavano l'una all'altra con le punte in mezzo alla casa Salomone ricoprì d'oro i cherubini e fece ornare tutte le pareti della casa all'intorno tanto all'interno quanto all'esterno di sculture di cherubini di palme di fiori sbocciati e tanto nella parte interiore quanto nella esteriore ricoprì d'oro il pavimento della casa all'ingresso del santuario fece una porta a due battenti di legno d'olivo la sua inquadratura con gli stipiti occupava la quinta parte della parete i due battenti erano di legno d'olivo egli fece scolpire dei cherubini delle palme e dei fiori sbocciati e le ricoprì d'oro stendendo l'oro sui cherubini e sulle palme fece pure per la porta del tempio degli stipiti di legno d'olivo che occupavano il quarto della larghezza del muro e due battenti di legno di cipresso ciascun battente si componeva di due pezzi mobili salomone fece scolpire dei cherubini delle palme e dei fiori sbocciati e le ricoprì d'oro che distese esattamente sulle sculture e costruì il muro di cinta del cortile interno con tre ordini di pietre lavorate e un ordine di travatura di cedro il quarto anno nel mese di ziv furono gettati i fondamenti della casa dell'eterno e l'undicesimo anno del mese di bull che è l'ottavo mese la casa fu terminata in tutte le sue parti secondo il disegno datone salomone mise sette anni a fabbricarla primo libro dei re capitolo settimo poi salomone costruì la sua propria casa e la compì interamente in tredici anni fabbricò prima di tutto la casa della foresta del libano di cento cubiti di lunghezza e di cinquanta di larghezza e di trenta d'altezza era basata su quattro ordini di colonne di cedro sulle quali poggiava una travatura di cedro un soffitto di cedro copriva le camere che poggiavano sulle colonne e che erano in numero di quarantacinque quindici per fila e verano tre ordini di camere le cui finestre si trovavano le une di rimpetto alle altre lungo tutti i tre ordini e tutte le porte coloro stipiti ed architravi erano quadrangolari e le finestre dei tre ordini di camere si trovavano le une di rimpetto alle altre in tutti i tre ordini fece pure il portico di colonne avente cinquanta cubiti di lunghezza e trenta di larghezza con un vestibolo davanti delle colonne e una scalinata in fronte poi fece il portico del trono dove amministrava la giustizia e che si chiamò il portico del giudizio e lo ricoprì di legno e di cedro dal pavimento al soffitto e la casa sua dove gli dimorava fu costruita nello stesso modo in un altro cortile dietro il portico e fece una casa dello stesso stile di questo portico per la figliola di faraone che gli aveva sposata tutte queste costruzioni erano di pietre scelte tagliate a misura segate con la sega interamente ed esternamente dai fondamenti ai cornicioni e dal di fuori fino al cortile maggiore anche i fondamenti erano di pietre scelte grandi di pietre di dieci cubiti e di pietre di otto cubiti e al di sopra c'erano delle pietre scelte tagliate a misura e delle gname di cedro il gran cortile aveva tutto intorno tre ordini di pietre lavorate e un ordine di trave di cedro come il cortile interiore della casa dell'Eterno e come il portico della casa il re Salomone fece venire da Tiro i ram figliolo di una vedova della tribù neftali suo padre era di Tiro e gli lavorava in rame era pieno di sapienza di intelletto e di industria per eseguire qualunque lavoro in rame egli si recò dal re Salomone ed esegui tutti i lavori da lui ordinati fece le due colonne di rame la prima aveva diciotto cubiti d'altezza e una corda di dodici cubiti misurava la circonferenza della seconda e fuse due capitelli di rame per metterli in cima alle colonne l'uno aveva cinque cubiti d'altezza e l'altro cinque cubiti d'altezza fece un graticolato un lavoro di intreccio dei festoni a guida di catenelle per i capitelli che erano in cima alle colonne sette per il primo capitello e sette per il secondo e fece due ordini di melagrane intorno all'uno di quei graticolati per coprire il capitello che era in cima all'una delle colonne e lo stesso fece per l'altro capitello i capitelli che erano in cima alle colonne del portico erano fatti a forma di giglio ed erano di quattro cubiti i capitelli posti sulle due colonne erano circondati da duecento melagrane in alto vicino alla convessità che era al di là del graticolato c'erano duecento melagrane disposte intorno al primo e duecento intorno al secondo capitello egli rizzò le colonne del portico del tempio rizzò la colonna a man destra e la chiamò jacin poi rizzò la colonna a man sinistra e la chiamò boas in cima alle colonne c'era un lavoro fatto a forma di giglio così fu compiuto il lavoro delle colonne poi fece il mare di getto che aveva dieci cubiti da un orlo all'altro era di forma perfettamente rotonda aveva cinque cubiti d'altezza e una corda di trenta cubiti ne misurava la circonferenza sotto l'orlo lo circondavano delle colloquintide dieci per cubito facendo in tutto il giro del mare le colloquintide disposte in due ordini erano state fuse assieme col mare questo posava su dieci buoi dei quali tre guardavano a settentrione tre ad occidente tre a mezzogiorno tre ad oriente il mare restava su di essi e le parti posteriori dei buoi erano volte verso il di dentro esso aveva lo spessore di un palmo il suo orlo fatto come l'orlo di una coppa aveva la forma di un fiore di giglio il mare conteneva duemila abati fece pure le dieci base di rame ciascuna aveva quattro cubiti di larghezza quattro cubiti di larghezza e tre cubiti di altezza e il lavoro delle basi consisteva in questo erano formate da riquadri tenuti assieme per mezzo di sostegni sopra i riquadri fra i sostegni c'erano dei leoni dei buoi e dei cherubini lo stesso sui sostegni superiori ma sui sostegni inferiori sotto i leoni e i buoi c'erano delle ghirlande a festoni ogni base aveva quattro ruote di rame con le sale di rame e ai quattro angoli c'erano delle mensole sotto il bacino queste mensole erano di getto di faccia ciascuna stavano delle ghirlande al coronamento della base e nell'interno c'era un'apertura in cui s'adattava il bacino essa aveva un cubito d'altezza era rotonda dalla forma di una base di colonna e aveva un cubito e mezzo di diametro anche lì verono delle sculture i riquadri erano quadrati e non circolari le quattro ruote erano sotto i riquadri le sale delle ruote erano fissate alla base all'altezza di ogni ruota era di un cubito e mezzo le ruote erano fatte come quelle di un carro le loro sale i loro quarti i loro razzi i loro mozzi erano di getto ai quattro angoli di ogni base c'erano quattro mensole di un medesimo pezzo con la base la parte superiore della base terminava con un cerchio di mezzo cubito d'altezza ed aveva i suoi sostegni ai suoi riquadri tutti di un pezzo con la base sulla parte liscia dei sostegni e sui riquadri i ram scolpì dei cherubini dei leoni e delle palme secondo gli spazi liberi e delle ghirlande tutti intorno così fece le dieci basi la fusione la misura e la forma erano le stesse per tutte poi fece le dieci conche di rame ciascuna delle quale conteneva quaranta bai ed era di quattro cubiti ed ogni conca posava sopra una delle dieci basi e gli collocò le basi così cinque al lato destro della casa cinque al lato sinistro e pose il mare al lato destro della casa verso sud est i ram fece pure i vasi per le ceneri le palette e i bacini così i ram compì tutta l'opera che il re salomone gli fece fare per la casa dell'eterno e le colonne le due palle dei capitelli in cima alle colonne i due reticolati per coprire le due palle dei capitelli in cima alle colonne le quattrocento melagrane per i due reticolati a due ordini di melagrane per ogni reticolato che coprivano le due palle dei capitelli in cima alle colonne le dieci basi le dieci conche sulle basi il mare che s'era unico e i dodici dei buoi sotto il mare, i vasi per le cenere, le palette e i bacini. Tutti questi utensili che Salomone fece fare ai ram per la casa dell'Eterno erano di rame tirato a pulimento. Il re li fece fondere nella pianura del Giordano in un suolo argiglioso fra Sukkot e Tsartam. Salomone lasciò tutti questi utensili senza riscontrare il peso del rame perché erano in grandissima quantità. Salomone fece fabbricare tutti gli arredi della casa dell'Eterno, l'altare d'oro, la tavola d'oro sulla quale si mettevano i panni della presentazione, i candelabri d'oro puro, cinque a destra e cinque a sinistra, davanti al santuario con i fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro, le coppe, i coltelli, i bacini, i cucchiai, i bracieri d'oro fuino e i cardini d'oro per la porta interna della casa dell'ingresso del luogo santissimo e per la porta della casa dell'ingresso del tempio. Così fu compiuta tutta l'opera che il re Salomone fece eseguire per la casa dell'Eterno. Poi Salomone fece portare l'argento, l'oro e gli utensili che Davide suo padre aveva consacrati e li mise nei tesori della casa dell'Eterno. Primo libro dei re capitolo ottavo Allora Salomone radunò presso di sé a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi delle tribù e i principi delle famiglie dei figlioli di Israele per portare su l'arca del patto dell'Eterno dalla città di Davide, cioè da Sion. Tutti gli uomini di Israele si radunarono presso il re Salomone nel mese di Etanin che è il settimo mese durante la festa. Arrivati che furono gli anziani di Israele, i sacerdoti presero l'arca e portarono sull'arca dell'Eterno la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. I sacerdoti ed i leviti eseguirono il trasporto. Il re Salomone e tutta la radunanza di Israele convocata presso di lui si raccolsero davanti all'arca e immolarono pecore e buoi in tal quantità da non potersi contare né calcolare. I sacerdoti portarono l'arca del patto dell'Eterno al luogo destinato nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ale dei cherubini, poiché i cherubini avevano le ali spiegate sopra il sito dell'arca e coprivano dal lato l'arca e le sue stanghe. Le stanghe avevano una tale lunghezza che le loro estremità si vedevano dal luogo santo. Davanti al santuario, ma non si vedevano dal di fuori. Esse sono rimaste quivi fino al di d'oggi. Nell'arca non verrà altro, se non che le due tavole di pietra che Mosè aveva deposte sotto lo Re, quando l'Eterno fece il patto con i figlioli di Israele dopo che questi furono usciti dal paese dell'Egitto, ora venne che, mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, la nuvola riempì la casa dell'Eterno, e i sacerdoti non poterono rimanervi per farvi l'ufficio loro a motivo della nuvola, poiché la gloria dell'Eterno riempiva la casa dell'Eterno. Allora Salomone disse, l'Eterno ha dichiarato che abiterebbe nell'oscurità. Io t'ho costruito una casa per la tua abitazione, un luogo dove tu dimorerai in perpetuo. Poi il Re voltò la faccia e benedisse tutta la radunanza di Israele, e tutta la radunanza di Israele stava in piedi, e disse, benedetto sia l'Eterno l'Iddio di Israele, il quale, disse a propria bocca, parlò a Davide mio padre, e con la sua potenza ha adempiuto quello che aveva dichiarato, dicendo, dal giorno che ti trassi dall'Egitto, io non scelsi alcun'altra città fra tutte le tribù di Israele per edificarvi una casa, ove il mio nome dimorasse, ma scelsi Davide per regnare sul mio popolo di Israele. Or Davide mio padre ebbe in cuore di costruire una casa al nome dell'Eterno, dell'Iddio di Israele, ma l'Eterno disse a Davide mio padre, quanto all'aver tu avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad aver questo in cuore, però non sarai tu che edificherai la casa, ma il tuo figliuolo che uscirà dalle tue viscere, sarà quelli che costruirà la casa al mio nome. E l'Eterno ha adempito la parola che aveva pronunziata, e io sono sorto in luogo di Davide mio padre, e mi sono assiso sul trono di Israele come l'Eterno aveva annunziato, ed ho costruita la casa nel nome dell'Eterno dell'Iddio di Israele. E vi ho assegnato un posto all'arca nella quale è il patto dell'Eterno, il patto che egli fermò con i nostri padri quando li trasse fuori dal paese d'Egitto. Poi Salomone si pose davanti all'altare dell'Eterno in presenza di tutta la radunanza di Israele, stesse le mani verso il cielo, e disse, O Eterno, Dio di Israele, non v'è Dio che sia simile a te, né lassù nel cielo né quaggiù in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il cuor loro. Tu hai mantenuto la promessa da te fatta al tuo servo Davide mio padre, e ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi la dempie. Ordunque, o Eterno, Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide mio padre la promessa che gli facesti dicendo, non ti mancherà mai qualcuno che segga nel mio cospetto sul trono di Israele, purché i tuoi figliuoli vegliano sulla loro condotta e camminino in mia presenza come tu hai camminato. Ordunque, o Dio di Israele, s'avveri la parola che dicesti al tuo servo Davide mio padre, ma egli è proprio vero che Dio abiti sulla terra. Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non ti possano contenere quantomeno questa casa che io ho costruita. Non di meno, o Eterno, Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplicazione, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo ti rivolge quest'oggi. Siano gli occhi tuoi notte e giorno aperti su questa casa, sul luogo di cui dicesti, qui vi sarà il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Ascolta la supplicazione del tuo servo e del tuo popolo di Israele quando pregheranno rivolti a questo luogo. Ascoltali dal luogo della tua dimora nei cieli. Ascolta e perdona. Se uno pecca contro il suo prossimo e si esige, da lui il giuramento per costringerlo a giurare. Se gli viene a giurare davanti al tuo altare in questa casa, tu ascoltalo dal cielo e agisci e giudica i tuoi servi. Condanna il colpevole facendo ricadere sul suo capo i suoi atti e dichiara giusto l'innocente, trattandolo secondo giustizia. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se torna a te e se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e supplicazioni in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, perdona il tuo popolo di Israele il suo peccato e riconduscilo nel paese che desti ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia a motivo dei loro peccati contro di te, se si pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome, se si convertano dai loro peccati perché li hai afflitti, tu esaudisci dal cielo, perdona il loro peccato ai tuoi servi e al tuo popolo di Israele ai quali mostrerai la tua buona strada per cui debbon camminare e manda la pioggia sulla terra che hai data come eredità al tuo popolo. Quando il paese sarà invaso dalla carestia e dalla peste, dalla ruggine o dal carbone, dalle locuste o dai bruci, quando il nemico assiederà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà qualsivoglia flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplicazione che ti sarà rivolta da un individuo o dall'intero tuo popolo di Israele, allorché ciascuno avrà riconosciuto la piaga del proprio cuore e stenderà le sue mani verso questa casa, tu esaudiscela dal cielo, dal luogo della tua dimora e perdona, agisci e rendi a ciascuno secondo le sue vie, tu che conosci il cuore di ognuno, poiché tu solo conosci il cuore di tutti i figlioli degli uomini e fa sì che essi ti temano tutto il tempo che vivranno nel paese che tu desti ai padri nostri. Anche lo straniero che non è del tuo popolo di Israele, quando verrà da un paese lontano a motivo del tuo nome, perché si udrà parlare del tuo gran nome, della tua man potente, del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, dal luogo della tua dimora e concedi a questo straniero tutto quello che ti domanderà, affinché tutti i popoli della terra conoscono il tuo nome per temerti, come fa il tuo popolo di Israele, e sappiano che il tuo nome è invocato su questa casa che io ho costruita. Quando il tuo popolo partirà per muover guerra al suo nemico seguendo la via per la quale tu l'avrai mandato, se innalza preghiera all'Eterno rivolto alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo le sue preghiere e le sue supplicazioni, e fagli ragione. Quando peccheranno contro di te, poiché non v'è uomo che non pecchi, e tu sarai mosso a sdegno contro di loro e li avrai abbandonati in balia del nemico che li menerà in cattività in un paese ostile, lontano, vicino, se nel paese dove saranno schiavi rientreranno in se stessi, se tornano a te e ti rivolgano supplicazioni nel paese di quelli che li hanno menati in cattività e dicano, abbiamo peccato, abbiamo operato iniquiamente, siamo stati malvagi, se tornano a te con tutto il loro cuore e con tutta l'anima loro nel paese dei loro nemici che li hanno menati in cattività e ti pregano rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, le loro preghiere e le loro supplicazioni e fa loro ragione. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te tutte le trasgressioni di cui si è reso colpevole verso di te, e muovi a pietà per essi quelli che li hanno menati in cattività, affinché abbiano compassione di loro, già che essi sono il tuo popolo e la tua eredità, e tu li hai tratti fuori dall'Egitto, di mezzo a una fornace e da ferro. Sia un aperti gli occhi tuoi alle supplicazioni del tuo servo e alle supplicazioni del tuo popolo di Israele, per esaudirli in tutto quello che loro ti chiederanno, poiché tu li hai appartati da tutti i popoli e dalla terra per farne la tua eredità, come dichiarasti per mezzo del tuo servo Mosè, quando traesti dall'Egitto i padri nostri, o Signore, o Eterno. Or quando Salomone ebbe finito di rivolgere all'Eterno tutta questa preghiera e questa supplicazione, si alzò davanti all'altare dell'Eterno dove stava inginocchiato tenendo le mani stesse verso il cielo, e levatosi in piede benedisse tutta la radunanza di Israele ad altavoci dicendo, benedetto sia l'Eterno che ha dato riposo al suo popolo di Israele secondo tutte le promesse che aveva fatte. Non una delle buone promesse da lui fatte per mezzo del suo servo Mosè è rimasta inadempiuta. L'Eterno è il nostro Dio sia con noi come fu coi nostri padri, non ci lasciano ci abbandoni, ma inchini i nostri cuori verso di Lui affinché camminiamo in tutte le sue vie e osserviamo i Suoi comandamenti, le Sue leggi, i Suoi precetti che gli prescrisse ai nostri padri. E le parole di questa mia supplicazione all'Eterno siano giorno e notte presenti all'Eterno all'Idio nostro, onde gli faccia ragione al suo servo e al suo popolo di Israele secondo occorrerà giorno per giorno, affinché tutti i popoli della terra riconoscono che l'Eterno è Dio e non ven'è alcun altro. Sia dunque il vostro dato interamente all'Eterno, al nostro Dio, per seguire le Sue leggi e osservare i Suoi comandamenti come fate oggi. Poi il Re e tutto Israele con Lui offrirono dei sacrifici davanti all'Eterno. Salomone immolò come sacrificio di azioni di grazia offerto all'Eterno ventidue mila vuoi e centoventimila pecore. Così il Re e tutti i figlioli di Israele dedicarono la casa dell'Eterno. In quel giorno il Re consacrò la parte del mezzo al cortile che è davanti alla casa dell'Eterno, poiché offri qui gli olocausti e le azioni e dei grassi e dei sacrifici di azioni di grazia. Già che l'altare di rame che è davanti all'Eterno era troppo piccolo per contenere gli olocausti, le oblazioni e i grassi dei sacrifici di azioni di grazia. E in quel tempo Salomone celebrò la festa e tutto Israele con Lui. Ci fu una grande radunanza di gente venuta da tutto il paese e dai dintorni di Amath fino al torrente d'Egitto e raccolta dinanzi all'Eterno al nostro Dio per sette giorni e poi per altri sette giorni, in tutto quattordici giorni. L'ottavo giorno licenziò il popolo e quelli benedirono il Re e se ne andarono alle loro tende allegri con cuore contento per tutto il bene che l'Eterno aveva fatto a Davide, suo servo, e ad Israele, suo popolo. Primo libro dei Re, capitolo nono Dopo che Salomone ebbe finito di costruire la casa dell'Eterno, la casa del Re, e tutto quello che ebbe gusto e volontà di fare, l'Eterno gli apparve per la seconda volta come gli era apparito a Gabaon, e gli disse, io ho esaudita la tua preghiera e la supplicazione che hai fatta dinanzi a me. Ho santificata questa casa che tu hai edificata per mettervi il mio nome in perpetuo, e gli occhi miei e il mio cuore saranno qui vi sempre. E quanto a te, se tu cammini dinanzi a me come camminò Davide, tuo padre, con integrità di cuore e con retitudine, facendo tutto quello che t'ho comandato, e se osservi le mie leggi e i miei precetti, io stabilirò il trono del tuo regno in Israele in perpetuo, come promisi a Davide tuo padre, dicendo, non ti mancherà mai qualcuno che segga sul trono di Israele. Ma se voi, o i vostri figlioli, vi ritraete dal seguire me, se non osservate i miei comandamenti e le mie leggi che io vi ho posti dinanzi, e andate invece a servire altri dei, a prostrarvi dinanzi a loro, io sterminerò Israele di sulla faccia del paese che gli ho dato, rigetterò dal mio cospetto la casa che ho consacrata al mio nome e Israele, sarà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. E questa casa, per quanto sia così in alto, sarà desolata, e chiunque le passerà vicino rimarrà stupefatto, e si metterà a fischiare, e si dirà, perché l'Eterno ha egli trattato in tal guisa questo paese e questa casa? E si risponderà, perché hanno abbandonato l'Eterno l'idio loro il quale trasse loro padre dal paese d'Egitto, si sono invaghiti da altri dei, e si sono prostrati dinanzi a loro, e li hanno serviti. Ecco perché l'Eterno ha fatto venire tutti questi mali su di loro. Ora avvenne che passati i venti anni nei quali Salomone costruì le due case, la casa dell'Eterno e la casa del re, siccome Iram, re di Tiro, aveva fornito a Salomone legname di cedro e di cipresso e oro a piacere di lui, il re Salomone diede a Iram venti città nel paese di Galilea. Iram uscì da Tiro per vedere le città dateli da Salomone, ma non gli piacquero, e disse, che città sono queste che tu mai date, fratel mio? E le chiamò Terra di Kabul, nome che è rimasto loro fino ad oggi. Iram aveva mandato al re centoventi talenti d'oro, ora ecco quel che concerne gli operai presi e i comandati dal re Salomone per costruire la casa dell'Eterno e la sua propria casa, Milo e le mura di Gerusalemme, Astor e Megiddo e Gezer. Faraone, re d'Egitto, era salito a impadronirsi di Gezer, l'aveva data alle fiamme ed aveva ucciso i cananei che abitavano la città, poi l'aveva data per dote alla sua figliuola, moglie di Salomone. E Salomone ricostruì Gezer, Bet-orong inferiore, Balat e Tadmor nella parte deserta del paese. Tutte le città di rifornimento che gli appartenevano, le città per i suoi carri, le città per i suoi cavalieri, insomma tutto quello che gli piacque di costruire a Gerusalemme, a Libano e in tutto il paese del suo dominio. Di tutta la popolazione che era rimasta gli Amorei e gli Ittei, dei Feresei e degli Ivei e dei Gabusei, che non erano dei figlioli di Israele, vale a dire dei loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese e che gli Israeliti non avevano potuto votare allo sterminio, Salomone fece tanti servi per le comandate, e tali sono rimasti fino al di oggi. Ma dei figlioli di Israele Salomone non impegnò alcuno come servo, essi furono la sua gente di guerra, i suoi ministri, i suoi principi, i suoi capitani, i comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I capi proposti da Salomone alla direzione dei suoi lavori erano in numero di 550 incaricati di sorvegliare la gente che eseguiva i lavori. Non appena la figliola di Faraone salì dalla città di Davide alla casa che Salomone le aveva fatto costruire, questi si mise a costruire millo. Tre volte all'anno Salomone offriva olocausti e sacrifici di azioni di grazia sull'altare che gli aveva retto all'Eterno e offriva profumi su quello che era posto davanti all'Eterno. Così egli terminò definitivamente la casa. Il re Salomone costruì anche una flotta a Ezion Geber presso Eloth sul lido del Mar Rosso nel paese di Edom. Iram mandò su questa flotta con la gente di Salomone e la sua propria gente, marinai che conoscevano il mare, ed essi andarono ad Ophir, vi presero dell'oro quattrocentoventi talenti, e li portarono al re Salomone. Primo libro dei re, capitolo decimo Ora la regina diceva, avendo udito la famma che circondava Salomone a motivo del nome dell'Eterno, venne a metterlo alla prova con degli enimmi. Essa giunse a Gerusalemme con un numerosissimo seguito, con cammelli carichi di aromi, d'oro in gran quantità e di pietre preziose, e recatesi da Salomone e gli disse tutto quello che aveva in cuore. Salomone rispose a tutte le questioni proposte lì da lei, e non c'è cosa che fosse oscura per il re e che non sapesse spiegare. E quando la regina diceva, ebbe veduto tutta la sapienza di Salomone e la casa che gli aveva costruita, e le vivande della sua menza, e gli alloggi dei suoi servi, e l'ordine del servizio dei suoi ufficiali, e le loro vesti, e i suoi coppieri, e gli olocasti che gli offriva nella casa dell'Eterno, rimase fuori sé dalla meraviglia, e disse al re, Quello che avevo sentito dire nel mio paese dei fatti tuoi e della tua sapienza era dunque vero. Ma non ci ho creduto finché non sono venuta io stessa, e non ho visto con gli occhi miei, ed ora, ecco, non me n'era stata riferita neppure la metà. La tua sapienza e la tua prosperità sorpassano la fama che me era giunta. Beata la tua gente! Beati questi tuoi servi che stanno del continuo dinanzi a te, ed ascoltano la tua sapienza. Sia benedetto l'Eterno il tuo Dio, il quale t'ha gradito mettendoti sul trono di Israele. L'Eterno ti ha stabilito re per far giustizia e ragione, perché gli nutre per Israele un amore perpetuo. Poi, ella donò al re centoventi talenti d'oro, grandissima quantità di aromi e delle pietre preziose. Non furono mai più portati i tanti aromi quanti ne diede la regina di Sheba al re Salomone. La flotta di Iran, che portava oro da Ofir, portava anche da Ofir del legno di Sandalo in grandissima quantità e delle pietre preziose. E di questo legno di Sandalo il re fece delle balaustrate per la casa dell'Eterno e per la casa reale, delle cetre e dei salteri per i cantori. Di questo legno di Sandalo non ne fu più portato, e non se ne è più visto fino al di d'oggi. Il re Salomone diede alla regina di Sheba tutto quello che essa bramò, e chiese oltre a quello che le donò con la sua munificenza sovrana, poi ella si rimise in cammino e coi suoi servini se ne ritornò al suo paese. Ora, il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era di 666 talenti, oltre quello che percepiva dai mercanti e dal traffico dei negozianti, da tutti i re dell'Arabia e dai governatori del paese. E il re Salomone fece fare 200 scudi grandi d'oro battuto, per ognuno dei quali impiegò 600 sicli d'oro, e 300 scudi d'oro battuto, più piccoli per ognuno dei quali impiegò 3000 d'oro, e il re li mise nella casa della foresta del Libano. E il re fece pure un gran trono d'avorio, che rivestì d'oro finissimo, questo trono aveva sei gradini, la sommità del trono era rotonda dalla parte di dietro, e il seggio aveva due bracci, uno di qua e uno di là, presso i due bracci stavano due leoni, e dodici leoni stavano su sei gradini da una parte e dall'altra. Niente di simile era ancora stato fatto in vero un altro regno, e tutte le coppe del re Salomone erano d'oro, e tutto il vasellame della casa della foresta del Libano era d'oro puro. Nulla era d'argento, dell'argento non si faceva alcun conto al tempo di Salomone, poiché il re aveva in mare una flotta di Tarsis insieme con la flotta di Iram, e la flotta di Tarsis una volta ogni tre anni veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Così il re Salomone fu il più grande di tutti i re della terra per ricchezze e per sapienza, e tutto il mondo cercava di vedere Salomone per udire la sapienza che Dio gli aveva messa in cuore, e ognuno gli portava il suo dono, vasi d'argento, vasi d'oro, vesti, armi, aromi, cavalli e muli, e questo avveniva ogni anno. Salomone radunò carri e cavalieri ed ebbe millequattrocento carri e dodicimila cavalieri che distribuì nelle città dove teneva i suoi carri e in Gerusalemme presso di sé, e il re fece sì che l'argento era in Gerusalemme così comune come le pietre, e i cedri tanto abbondanti quanti sicomori della pianura. I cavalli che Salomone aveva li venivano menati dall'Egitto, le carovane dei mercanti del re li andavano a prendere a mandri per un prezzo convenuto. Un equipaggio uscito dall'Egitto e giunto a destinazione veniva a costare seicento sicli d'argento, un cavallo centocinquanta. Nello stesso modo, per mezzo di quei mercanti, se ne faceva venire per tutti i re degli Ittei e per i re della Siria. Primo libro del re, capitolo undicesimo. Ora il re Salomone, oltre la figliuola di Faraone, amò molte donne straniere, delle Maobite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittee, donne appartenenti ai propri dei quali l'Eterno aveva detto ai figlioli di Israele, non andate da loro e non veggano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori, ed ebbe settecento principesse per mogli e trecento concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore, cosicché al tempo della vecchiaia di Salomone le sue mogli gli inclinarono il cuore verso altri dei, e il cuore di lui non appartenne tutto quanto all'Eterno, al suo Dio, come aveva fatto il cuore di Davide suo padre. E Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominazione degli Ammoniti, e così Salomone fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e non seguì pienamente l'Eterno come aveva fatto Davide suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che è stato di rimpetto a Gerusalemme un altro luogo per Kemosh, l'abominazione di Moab, e per Molok, l'abominazione dei figlioli di Ammon, e fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. E l'Eterno si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era alienato dall'Eterno, dall'Idio di Israele, che gli era apparito due volte, e gli aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dall'Eterno, e l'Eterno disse a Salomone, «Giacché tu hai egito in questo modo, e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti strapperò di dosso il reame e lo darò al tuo servo. Non di meno per amore di Davide tuo padre, io non lo farò te vivente, ma lo strapperò dalle mani del tuo figliolo. Però non gli strapperò tutto il reame, ma lascerò una tribù al tuo figliolo per amore di Davide mio servo, e per amore di Gerusalemme che io ho scelta». E l'Eterno suscitò un nemico a Salomone, Adad l'idumeo, che era della stirpe reale di Edom, e quando Davide sconfisse Edom, e Joab, capo dell'esercito, salì per seppellire i morti, e uccise tutti i maschi che erano in Edom, poiché Joab rimase in Edom sei mesi con tutto Israele, finché avebbe sterminati tutti i maschi, questo Adad fuggì con alcuni idumei, servi di suo padre, per andare in Egitto. Adad era allora un giovinetto. Quelli dunque partirono da Madian, e andarono a Paran presso, presero seco degli uomini di Paran, e giunsero in Egitto dal faraone re d'Egitto, il quale diede a Adad una casa, provvide al suo mantenimento, e gli assegnò dei terreni. Adad entrò talmente nelle grazie di faraone, che questi li diede per moglie la sorella della propria moglie, la sorella della regina Tapenes, e la sorella di Tapenes li partorì un figliuolo, Genabut, che Tapenes divezzò in casa di faraone, e Genebat rimase in casa di faraone tra i figliuoli di faraone. Or, quando Adad ebbe sentito in Egitto che Davide si era addormentato con i suoi padri, e che Joab, capo dell'esercito, era morto, disse a faraone, dammi licenza che io me ne vada al mio paese, e faraone gli rispose, che ti manca da me, perché tu cerchi di andartene al tuo paese? E quelli replicò, nulla, non di meno ti prego, lasciami partire, e Dio suscitò un altro nemico di Salomone, Reson, figliuolo di Eliada, che era fuggito dal suo signore Adadoser, re di Zoba, ed egli aveva radunato gente intorno a sé, ed era diventato capobanda quando Davide massacrò i siri. Egli e gli suoi andarono a Damasco, e si stabilirono, e regnarono in Damasco. E Reson fu nemico di Israele per tutto il tempo di Salomone, e questo, oltre il male già fatto da Adad, aborì Israele e regnò sulla Siria. Anche Geroboamo, servo di Salomone, si ribellò contro il re. Egli era figlio di Nebat, e frateo di Zereda, e aveva per madre una vedova che si chiamava Zerua. La casa per cui si ribellò contro il re fu questa. Salomone costruiva Millo, e chiudeva la breccia della città di Davide, suo padre. Ora, Geroboamo era un uomo forte e valoroso, e Salomone, veduto come questo giovane lavorava, gli diede la sorveglianza di tutta la gente della casa di Giuseppe, comandata ai lavori. In quel tempo avvenne che Geroboamo, essendo uscito di Gerusalemme, si imbattè per strada nel profeta Aija di Scilo, che portava un mantello nuovo, ed erano loro due soli nella campagna. Aija prese il mantello nuovo che aveva addosso, lo stracciò in dodici pezzi, e disse a Geroboamo, prendine per te dieci pezzi, perché l'Eterno, l'Idio di Israele, dice così. Ecco, io strappo questo regno dalle mani di Salomone, e te ne darò dieci tribù, ma egli resterà una tribù per l'amore di Davide, mio servo, e per l'amore di Gerusalemme, della città che ho scelta fra tutte le tribù di Israele. E ciò perché i figlioli di Israele mi hanno abbandonato e si sono prostrati davanti ad Astarte, divinità dei Sidoni, davanti a Chemosh, dio di Moab, e davanti a Milcom, dio dei figlioli d'Amon, e non hanno camminato nelle mie vie per fare ciò che è giusto agli occhi miei, e per osservare le mie leggi e i miei precetti come fece Davide, padre di Salomone. Non di meno, io torrò dalle mani di lui tutto il regno, ma lo manterrò principe per tutto il tempo della sua vita, per amore di Davide, mio servo, che io scelsi e che osservò i miei comandamenti e le mie leggi. Materrò il regno dalle mani del suo figliolo e te ne darò dieci tribù, e al suo figliolo lascerò una tribù affinché Davide, mio servo, abbia sempre una lampada davanti a me in Gerusalemme, nella città che ho scelta per mettervi il mio nome. Io prenderò dunque te, e tu regnerai su tutto quello che l'anima tua desidererà, e sarai re sopra Israele. E se tu obbedisci a tutto quello che ti comanderò, e cammini nelle mie vie, e fai ciò che è giusto agli occhi miei, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide, mio servo, io sarò con te. Ti edificherò una casa stabile, come ne edificai una a Davide, e ti darò Israele, e umilirò così la progenie di Davide, ma non per sempre. Perciò Salomone cercò di far morire Geroboamo, ma questi si levò e fuggì in Egitto presso Shihak, re di Egitto, e rimasi in Egitto fino alla morte di Salomone. Ora il rimanente delle geste di Salomone è tutto quello che fece, e la sua sapienza sta scritto nel libro delle geste di Salomone. Salomone regnò a Gerusalemme su tutto Israele quarant'anni, poi Salomone si addormentò coi suoi padri, e fu sepolto nella città di Davide suo padre, e Roboamo, suo figliolo, gli succedete nel regno. Primo libro dei re, capitolo dodicesimo. Roboamo andò a Sicem, perché tutto Israele era venuto a Sicem per farlo re. Quando Geroboamo, figliolo di Nebat, ebbe di ciò notizia, si trovava ancora in Egitto, dove era fuggito per scampare dal re Salomone. Stava in Egitto, e qui vi lo mandarono a chiamare. Allora Geroboamo e tutta la radunanza di Israele vennero a parlare a Roboamo, e gli dissero, Tuo padre ha reso duro il nostro gioco, ora rendi tu più lieve la dura servitù e il gioco pesante che tuo padre ci ha imposti, e noi ti serviremo. Ed egli rispose loro, Andatevene, e tornate da me fra tre giorni. E il popolo se ne andò. Il re Roboamo si consigliò coi vecchi che erano stati al servizio del re Salomone, suo padre, mentre era vivo, e disse, Che mi consigliate voi di rispondere a questo popolo? E quelli li parlarono così. Se oggi tu ti fai servo di questo popolo, se tu gli cedi, se gli rispondi e gli parli con bontà, ti sarà servo per sempre. Ma Roboamo abbandonò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò coi giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio. E disse loro, Come mi consigliate voi che rispondiamo a questo popolo che mi ha parlato dicendo, Alleva il gioco che tuo padre ci ha imposto? E i giovani che erano cresciuti con lui gli parlarono così. Ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo, Tuo padre ha reso pesante il nostro gioco e tu ce lo allevia. Gli risponderai così, Il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre. Ora mio padre vi ha caricati di un gioco pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò quei flageli a punte. Tre giorni dopo, Geroboamo e tutto il popolo vennero da Roboamo come aveva ordinato il re di dicendo, Tornate da me fra tre giorni. Il re rispose aspramente, abbandonando il consiglio che i vecchi gli avevano dato, e parlò al popolo secondo il consiglio dei giovani, dicendo, Mio padre ha reso pesante il vostro gioco, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta e io vi castigherò quei flageli a punte. Così il re non diede ascolto al popolo, perché questa cosa era diretta dall'Eterno, affinché si adempisse la parola da lui detta per mezzo di Ahija di Scilo a Geroboamo, figliuolo di Nebat. E quando tutto il popolo di Israele vide che il re non gli dava ascolto, rispose al re dicendo, Chi abbia a noi da fare con Davide? Noi non abbia nulla di comune col figliuolo di Sai. Alle tue tende, o Israele, provvedi ora tu alla tua casa, o Davide. E Israele se ne andò alle sue tende. Ma sui figlioli di Israele, che abitavano nelle città di Giuda, regnò Roboamo. E il re Roboamo mandò loro ad Oram preposto alle comandate, ma tutto Israele lo lapidò ed egli morì. E il re Roboamo salì in fretta sopra un carro per fuggire a Gerusalemme. Così Israele si ribellò alla casa di Davide, ed è rimasto ribelle fino ad oggi. E quando tutto Israele ebbe udito che Geroboamo era tornato, lo mandò a chiamare perché venisse alla radunanza, e lo fece resto tutto Israele. Nessuno seguitò la casa di Davide tranne la sola tribù di Giuda. E Roboamo, giunto, che fu in Gerusalemme, radunò tutta la casa di Giuda e la tribù di Beniamino. Centottantamila uomini guerrieri scelti per combattere contro la casa di Israele e restituire il regno a Roboamo, figliuolo di Salomone. Ma la parola di Dio fu così rivolta a Scemaia, uomo di Dio. Parla a Roboamo, figliuolo di Salomone, re di Giuda, e a tutta la casa di Giuda e di Beniamino e al resto del popolo di loro. Così parla l'Eterno. Non salite a combattere contro i vostri fratelli, figliuoli di Israele. Ognuno se ne torni a casa sua perché questo è avvenuto per voler mio. Quelli ubbidirono alla parola dell'Eterno e se ne tornarono via secondo la parola dell'Eterno. Geroboamo edificò Sichen nella contrada montuosa di Ephraim e vi si stabilì. Poi uscì di là ed edificò Penuel. E Geroboamo disse in cuor suo, ora il regno potrebbe benissimo tornare alla casa di Davide, se questo popolo sale a Gerusalemme per offrire dei sacrifici nella casa dell'Eterno, il suo cuore si volgerà verso il suo Signore, verso Roboamo, re di Giuda, e mi uccideranno e torneranno a Roboamo, re di Giuda. Il re quindi, dopo essersi consigliato, fece due vitelli d'oro e disse al popolo, siete ormai saliti abbastanza a Gerusalemme. O Israele, ecco i tuoi dei che ti hanno tratto dal paese d'Egitto, e ne mise uno a Beto e l'altro a Dan. Questo diventò un'occasione di peccato perché il popolo andava fino a Dan per presentarsi davanti a uno di quei vitelli. Egli fece anche delle case d'altiluoghi e creò dei sacerdoti presi qua e là di fra il popolo e che non erano dei figliuoli di Levi. Geroboamo istituì pure una solennità nell'ottavo mese, nel quindicesimo giorno del mese, simile alla solennità che si celebrava in Giuda, e offrì dei sacrifici sull'altare. Così fece a Beto perché si offrissero sacrifici di vitelli che egli aveva fatto, e a Beto stabilì sacerdoti degli altri luoghi che aveva eretti. Il quindicesimo giorno dell'ottavo mese, mese che aveva scelto di sua testa, Geroboamo salì all'altare che aveva costruito a Beto, e fece una festa per i figlioli di Israele, e salì all'altare per offrire dei profumi. Primo libro dei re, capitolo tredicesimo. Ed ecco che un uomo di Dio giunse da Giuda a Beto per ordine dell'Eterno, mentre Geroboamo stava presso l'altare per ardere il profumo, e per ordine dell'Eterno si mise a gridare contro l'altare e dire, Altare, altare! Così dice l'Eterno. Ecco nascerà alla casa di Davide un figliuolo per nome Giosia, il quale molerà su di te i sacerdoti degli altri luoghi che su di te ardono profumi, e sarderanno su di te ossa umane. E quello stesso giorno diede un segno miracoloso dicendo, Questo è il segno che l'Eterno ha parlato. Ecco, l'altare si spaccherà e la cenere che aveva sopra si spanderà. Quando il re Geroboamo ebbe udita la parola che l'uomo di Dio aveva gridata contro l'altare di Beto, stesse la mano dall'alto dell'altare e disse, Pigliatelo! Ma la mano che Geroboamo aveva stesa contro di lui si seccò e non poteva più ritirarla a sé. E l'altare si spaccò, e la cenere che aveva sopra si disperse secondo il segno che l'uomo di Dio aveva dato per ordine dell'Eterno. Allora il re si rivolse all'uomo di Dio e gli disse, Dei, implora la grazia dell'Eterno del tuo Dio e prega per me affinché mi sia resa la mano. E l'uomo di Dio implorò la grazia dell'Eterno e il re riebbe la sua mano che tornò come era prima. E il re disse all'uomo di Dio, Vieni meco a casa, ti ristorerai e io ti farò un regalo. Ma l'uomo di Dio rispose al re, quando anche tu mi dessi la metà della tua casa, io non entrerò da te e non mangerò pane né berrò acqua in questo luogo, poiché questo è l'ordine che mi è stato dato dall'Eterno. Tu non vi mangerai pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatta andando. Così egli se ne andò per un'altra strada e non tornò per quella che aveva fatta venendo a Beto. Or vera un vecchio profeta che abitava a Beto e uno dei suoi figlioli venne a raccontargli tutte le cose che l'uomo di Dio aveva fatte in quel giorno a Beto e le parole che aveva dette al re. Il padre, udito che ebbe il racconto, disse ai suoi figlioli per qual via se ne è egli andato, perché i suoi figlioli l'avevano veduto e avevano veduto la via per la quale se ne era andato l'uomo di Dio venuto da Giuda. Ed egli disse ai suoi figlioli, sellatemi l'asino. E quelli lì sellarono l'asino ed egli vi montò su. Andò dietro all'uomo di Dio e lo trovò a sedere sotto un terebinto e gli disse, sei tu l'uomo di Dio venuto da Giuda? Quelli rispose, son io. Allora il vecchio profeta gli disse, vieni me qua a casa mia e prendi un po' di cibo. Ma quelli rispose, io non posso tornare indietro teco né entrare da te e non mangerò pane né berrò acqua teco in questo luogo, poiché mi è stato detto per ordine dell'Eterno tu non mangerai quivi pane né berrai acqua e non tornerai per la strada che avrai fatta andando. L'altro gli disse, anch'io sono profeta come sei tu e un angelo mi ha parlato per ordine dell'Eterno dicendo, rimena lo teco in casa tua affinché mangi del pane e beva dell'acqua. Costui gli mentiva. Così l'uomo di Dio tornò indietro con l'altro e mangiò del pane e beve dell'acqua in casa di lui. O mentre sedevano a mensa la parola dell'Eterno fu rivolta al profeta che aveva fatto tornare indietro l'altro. Ed egli gridò all'uomo di Dio che era venuto da Giuda. Così parla l'Eterno, giacché tu ti sei ribellato all'ordine dell'Eterno e non hai osservato il comandamento che l'Eterno l'idiotuo ti aveva dato e sei tornato indietro e hai mangiato del pane e bevuto dell'acqua nel luogo del quale egli ti aveva detto, non vi mangiare del pane e non vi bere dell'acqua, il tuo cadavere non entrerà nel sepolcro dei tuoi padri. Quando l'uomo di Dio ebbe mangiato e bevuto, il vecchio profeta che l'aveva fatto tornare indietro gli selò l'asino. L'uomo di Dio se ne andò e un leone lo incontrò per in strada e l'uccise, e il suo cadavere restò disteso sulla strada. L'asino se ne stava presso di lui, e il leone pure presso al cadavere. Quando ecco passarono degli uomini che videro il cadavere disteso sulla strada e il leone che stava da presso al cadavere, e vennero a riferire la cosa nella città dove abitava il vecchio profeta. E quando il profeta che aveva fatto tornare indietro l'uomo di Dio ebbe ciò udito, disse, è l'uomo di Dio che è stato ribelle all'ordine dell'Eterno, perciò l'Eterno l'ha dato in balia ad un leone che l'ha sbranato e ucciso secondo la parola che l'Eterno gli aveva data. Poi si rivolse ai suoi figlioli e disse loro, sellatmi l'asino, e quelli glielo sellarono. E quando egli andò trovò il cadavere disteso sulla strada e l'asino e il leone che stavano presso il cadavere, il leone non aveva divorato il cadavere né sbranato l'asino. Il profeta presse il cadavere dell'uomo di Dio e lo posse sull'asino e lo portò indietro, e il vecchio profeta rientrò in città per piangerlo e per dargli sepoltura, e posse il cadavere nel proprio sepolcro, ed egli e i suoi figlioli lo piansero dicendo, hai fratel mio! E quando l'ebbe seppellito il vecchio profeta disse ai suoi figlioli, quando sarò morto, seppellitimi nel sepolcro dove è sepolto l'uomo di Dio. Ponete le osse mia accanto alle sue, poiché la parola da lui gridata per ordine dell'Eterno contro l'altare di Beto e contro tutte le case degli altri luoghi che sono nelle città di Samaria si verificherà certamente. Dopo questo fatto, Geroboamo non si distolse dalla sua mala via, creò anzi di nuovo dei sacerdoti degli altri luoghi, prendendoli qua e là di fra il popolo, chiunque voleva era da lui consacrato e diventava sacerdote degli altri luoghi. E quella fu per la casa di Geroboamo un'occasione di peccato che attirò su di lei la distruzione e lo sterminio di sulla faccia della terra. Primo re, capitolo quattordicesimo In quel tempo Abigia, figliuolo di Geroboamo, si ammalò, e Geroboamo disse a sua moglie, levati ti prego e travestiti affinché non si conosca che tu sei la moglie di Geroboamo, e va a Scilo. Ecco, qui vi è il profeta Aicia, il quale predisse di me che sarei stato re di questo popolo, e prendi te con dieci pani, delle focacce, un vaso di miele, e va da lui, egli ti dirà quello che avverrà di questo fanciullo. La moglie di Geroboamo fece così, si levò e andò a Scilo, e giunse a casa di Aicia, Aicia non poteva vedere perché gli si era offuscata la vista per la vecchiezza. Or l'Eterno aveva detto ad Aicia, ecco la moglie di Geroboamo sta per venire a consultarti riguardo al suo figliuolo che è ammalato. Tu parlale così e così. Quando entrerà, fingerà d'essere un'altra. Come dunque Aicia udì il rumore dei piedi di lei che entrava per la porta disse, entra pure moglie di Geroboamo, perché fingi d'essere un'altra? Io sono incaricato di dirti delle cose dure. Va e dia Geroboamo, così parla all'Eterno lì Dio di Israele. Io t'ho innalzato di mezzo al popolo, t'ho fatto principe del mio popolo Israele, ed ho strappato il regno dalle mani della casa di Davide e l'ho dato a te. Ma tu non sei stato come il mio servo Davide, il quale osservò i miei comandamenti e mi seguì con tutto il suo cuore, non facendo, se non che è giusto agli occhi miei, e hai fatto peggio di tutti quelli che t'hanno preceduto, e sei andato a farti degli altri dei e delle immagini fuse per provocarmi ad ira, ed hai gettato me dietro alle tue spalle. Per questo ecco che io faccio scendere la sventura sulla casa di Geroboamo, e sterminerò dalla casa di Geroboamo fino all'ultimo uomo, tanto chi è schiavo come chi è libero. In Israele, spazzerò la casa di Geroboamo come si spazza lo sterco finché sia tutto sparito. Quelli della casa di Geroboamo che moriranno in città s'andranno divorati dai cani, e quelli che moriranno per i campi li divoreranno gli uccelli del cielo, poiché l'Eterno ha parlato. Quanto a te levati, vattene a casa tua, e non appena avrai messo il piede in città, il bambino morrà, e tutto Israele lo piangerà e gli darà sepoltura. Egli è il solo della casa di Geroboamo che sarà messo in un sepolcro, poiché è il solo nella casa di Geroboamo in cui si è trovato qualche cosa di buono rispetto all'Eterno, all'Idio di Israele. L'Eterno stabilirà sopra Israele un re, che in quel giorno sterminerà la casa di Geroboamo, e che dico? Non è forse quello che già succede? E l'Eterno colpirà Israele che sarà come una canna agitata nell'acqua, sradicherà Israele da questa buona terra che aveva data ai loro padri e li disperderà oltre il fiume, perché si sono fatti degli idoli di Astarte, provocando ad ira l'Eterno, e abbandonerà Israele a cagione dei peccati che Geroboamo ha commessi e fatti commettere a Israele. La moglie di Geroboamo si levò, partì, e giunse a Tirzar, e come ella metteva il piede sulla soglia di casa, il fanciullo morì. E lo seppellirono, e tutto Israele lo pianse secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca del profeta Ahija, suo servo. Il resto delle azioni di Geroboamo, le sue guerre e il modo come regnò, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. E la durata del regno di Geroboamo fu di ventidue anni, poi si addormentò coi suoi padri, e Nadab, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Roboamo, figliuolo di Salomone, regnò in Giuda. Aveva quarantun anni quando cominciò a regnare, regnò diciassette anni in Gerusalemme, nella città che l'Eterno si era scelta fra tutte le tribù di Israele per mettervi il suo nome. Sua madre si chiamava Naham la Monita. Quei di Giuda fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e quei peccati che commisero provocarono l'Eterno a Gerosia più di quanto avessero fatto i loro padri. Si eressero anch'essi degli alti luoghi, con delle statue, degli idoli da starte, su tutte le alte colline e sotto ogni albero verdeggiante. Verrono anche nel paese degli uomini che si prostituivano. Essi praticarono tutti gli atti abominevoli delle nazioni che l'Eterno aveva cacciate dinanzi ai figlioli di Israele. L'anno quinto del regno di Reboamo, Shishak, re d'Egitto, salì contro Gerusalemme e portò via i tesori della casa dell'Eterno e i tesori della casa del re, portò via ogni cosa, prese pure tutti gli scudi d'oro che Salomone aveva fatti. Invece, dei quali Reboamo fece fare degli scudi di rame e li affidò ai capitani della guardia che costudivano la porta della casa del re. Ogni volta che il re entrava nella casa dell'Eterno, quei della guardia li portavano, poi li riportavano nella sala della guardia. Il resto delle azioni di Roboamo e tutto quello che fece sta scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ora vi fu guerra continua fra Roboamo e Geroboamo, e Roboamo si addormentò coi suoi padri, e con essi fu sepolto nella città di Davide. Sua madre si chiamava Naamma la Monita, e Abijam, suo figliuolo, regnò al luogo suo. Primo libro dei Re, capitolo quindicesimo Il diciottesimo anno del regno di Geroboamo, figliuolo di Nebat, Abijam cominciò a regnare sopra Gerusalemme. Regnò tre anni in Gerusalemme. Sua madre si chiamava Maacca, figliuola di Abishalom, ed egli si abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, e il suo cuore non fu tutto quanto per l'Eterno l'iddio suo, come era stato il cuore di Davide suo padre. Non di meno, per amore di Davide, l'Eterno, il suo Dio, gli lasciò una lampada a Gerusalemme, stabilendo dopo di lui il suo figliuolo, e lasciando sussistere Gerusalemme, perché Davide aveva fatto ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, e non si era scostato in nulla dai suoi comandamenti per tutto il tempo della sua vita, salvo per il fatto di Urialo Iteo. Ora, fra Roboamo e Geroboamo vi fu guerra finché Roboamo visse. Il resto delle azioni di Abisham e tutto quello che i fece sta scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda, e vi fu guerra fra Abisham e Geroboamo. Ed Abisham si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide, ed Asa, suo figliuolo, regnò in luogo suo. L'anno ventesimo del regno di Geroboamo, re di Israele, Asa cominciò a regnare sopra Giuda. Regnò quarantun'anni in Gerusalemme, sua madre si chiamava Macca, figliuola di Abishalom. Asa fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno, come aveva fatto Davide, suo padre. Tolse via dal paese quelli che si prostituivano, fece sparire tutti gli idoli che i suoi padri avevano fatti, ed estituì pure dalla dignità di regina sua madre Macca, perché essa aveva rizzato un'immagine ad Astarte. Asa battè l'immagine e la bruciò presso il torrente Kidron, e non di meno gli altri luoghi non furono eliminati quantunque il cuore di Asa fosse tutto quanto per l'Eterno durante l'intera sua vita. Egli fece portare nella casa dell'Eterno le cose che suo padre aveva consacrate e quelle che aveva consacrate gli stesso, argento, oro, vasi. E ci fu guerra fra Asa e Basa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. Basa, re di Israele, salì contro Gerusalemme ed edificò Rama per impedirle che alcuno andasse o venisse dalla parte di Asa, re di Giuda. Allora Asa presse tutto l'argento e l'oro che era rimasto nei tesori della casa dell'Eterno, prese i tesori della casa del re e mise tutto in mano ai suoi servi, che mandò a Benadat, figliuolo di Tabrimon, figliuolo di Esion, re di Siria, che abitava Damasco, per dirgli, sia via alleanza fra me e te, come vi fu fra il padre mio e il padre tuo. Ecco, io ti mando in dono dell'argento e dell'oro. Va, rompi la tua alleanza con Basa, re di Israele, onde egli si ritiri da me. Benadat li diede ascolto al re Asa, mandò i capi del suo esercito contro le città di Israele ed espugnò Ijon, Dan, Abel, Bet, Maacca e tutta la contrada di Kinerot con tutto il paese di Neftali. E quando Basa, ebbe dito questo, cessò di edificare Rama e rimase a Tirza. Allora il re Asa convocò tutti quei di Giuda senza accentuarne alcuno, e quelli portarono via le pietre e legname di cui Basa si era servito per la costruzione di Rama, e con essi il re edificò Geva di Beniamino e Mizpah. Il resto delle sue azioni di Asa, tutte le sue prodezze, tutto quello che fece e le città che edificò, si trova scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Ma nella sua vecchiaia egli patì di male ai piedi, e Asa si addormentò come i suoi padri e fu sepolto con essi nella città di Davide, suo padre, e Giosafà, suo figliuolo, regnò in luogo suo. Nadab, figliuolo di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele il secondo anno di Asa, re di Giuda, e regnò sopra Israele due anni, e fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e seguì le tracce di suo padre e il peccato nel quale aveva indotto Israele. Baasa, figliuolo di Ahija, nella casa di Zaccar, cospirò contro di lui e lo uccise a Ghibeton, che apparteneva ai Filistei, mentre Nadab e tutto Israele assediavano Ghibeton. Baasa l'uccise l'anno terzo di Asa, re di Giuda, e regnò in luogo suo. E non appena fu re, sterminò tutta la casa di Geroboamo, non risparmiò anima viva di quella casa, ma la distrusse interamente secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per la bocca del suo servo Aija l'Oscilonita, a motivo dei peccati che Geroboamo aveva commessi e fatti commettere a Israele, quando aveva provocato a dirali Dio di Israele. Il resto delle azioni di Nadab e tutto quello che fece, non sono esse scritte nel libro delle cronache dei re di Israele, e ci fu guerra fra Asa e Baasa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. L'anno terzo di Asa, re di Giuda, Baasa, figliolo di Aija, cominciò a regnare su tutto Israele. Stava a Tirsta e regnò ventiquattro anni, fece quel che è male agli occhi dell'Eterno e seguì le vie di Geroboamo e il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele. Primo libro dei re, capitolo sedicesimo E la parola dell'Eterno fu rivolta a Jehu, figliolo di Annani, controbassa in questi termini. Io t'ho innalzato dalla polvere e t'ho fatto principe del mio popolo Israele, ma tu hai battuto le vie di Geroboamo e hai indotto il mio popolo Israele a peccare in guisa da provocarmi a sdegno con i suoi peccati. Perciò io spazzerò via Baasa e la sua casa e farò della casa tua quel che ho fatto della casa di Geroboamo, figliolo di Nebat. Quelli della famiglia di Baasa che morranno in città saranno divorati dai cani e quelli che morranno per i campi li mangeranno gli uccelli del cielo. Le rimanenti azioni di Baasa, le sue geste, le sue prodezze trovansi scritte nel libro delle cronache dei re di Israele e Baasa si addormentò coi suoi padri e fu sepolto a Tirsta ed Ela, suo figliolo, regnò in luogo suo. La parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca del profeta Jehu, figliolo di Anani fu diretta contro Baasa e contro la casa di lui non soltanto a motivo di tutto il male che Baasa aveva fatto sotto gli occhi dell'Eterno provocandolo ad ira con opere delle sue mani così da imitare la casa di Geroboamo, ma anche perché aveva sterminata quella casa. L'anno ventesimo sesto di Asare e di Giuda, Ela, figliolo di Baasa, cominciò a regnare sopra Israele. Stava a Tirsta e regnò due anni. Zimri, suo servo comandante della metà dei suoi carri, congiurò contro di lui. Ela era a Tirsta bevendo ed ubriacandosi in casa di Arza, prefetto del palazzo di Tirsta. Quando Zimri entrò, lo colpì e l'uccise, l'anno ventesimo d'asta re di Giuda, e regnò in luogo suo. E quando fu re, non appena si fu assiso sul trono, distrusse tutta la casa di Baasa, e non gli lasciò neppure un bimbo, né parenti, né amici. Così Zimri sterminò tutta la casa di Baasa, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata contro Baasa per bocca del profeta Jehu, a motivo di tutti i peccati che Baasa ed Ela, suo figliolo, avevano commesso e fatto commettere ad Israele, provocando ad ira all'Eterno l'Idio di Israele con i loro idoli. Il resto delle azioni di Ela e tutto quello che i fece trovasi scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. L'anno ventesimo di Asa, re di Giuda, Zimri regnò per sette giorni in Tirsa. Ora il popolo era accampato contro Ghibetoth, città dei Filistei. Il popolo qui li accampato sentì dire Zimri ha fatto una congiura e ha perfino ucciso il re. E questo stesso giorno nell'accampamento tutto Israele fece re di Israele Omri capo dell'esercito. Ed Omri con tutto Israele salì da Ghibetoth e assediò Tirsta. Zimri, vedendo che la città era presa, si ritirò nella torre della casa del re, die fuoco alla casa reale restando sotto alle rovine, e così morì a motivo dei peccati che aveva commessi, facendo ciò che è male agli occhi dell'Eterno e battendo la via di Geroboamo e abbandonandosi al peccato che questi aveva commesso inducendo a peccare Israele. Il resto degli azioni di Zimri, la congiura che gli ordì, sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. Allora il popolo di Israele si divise in due parti. Metà del popolo seguiva Tibni, figliuolo di Gignat, per farlo re. L'altra metà seguiva Omri. Ma il popolo che seguiva Omri la vinse contro quello che seguiva Tibni, figliuolo di Gignat. Tibni morì e regnò Omri. Il trentunesimo anno da Asa re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israele e regnò dodici anni, regnò sei anni in Tirsta, poi comperò da Scemer il monte di Samaria per due talenti d'argento, edificò su quel monte una città e alla città che edificò diede nome di Samaria dal nome di Scemer, padrone del monte. Omri fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e fece peggio di tutti i suoi predecessori. Batte in tutto la via di Geroboamo, figliuolo di Nebat, e s'abbandonò ai peccati di Geroboamo, i quali aveva fatto commettere a Israele provocando a sdegno l'Eterno, l'iddio di Israele con i suoi idoli. Il resto delle azioni compiute da Omri e le prodezze da lui fatte sta tutto scritto nel libro delle cronache dei rei di Israele. Ed Omri si addormentò coi suoi padri e fu sepolto in Samaria e Aqab suo figliuolo regnò in luogo suo. Aqab, figliuolo di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno trentottesimo di Asare e di Giuda e regnò in Samaria sopra Israele per ventidue anni. Aqab, figliuolo di Omri, fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno, più di tutti quelli che l'avevano preceduto. E come se fosse stata per lui poca cosa o abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figliuolo di Nebat, prese per moglie Itrabrel, figliuola di Ebaal, re di Sidoni. Andò a servire Ebaal, a prostarsi dinanzi a lui, ed eresse un altare a Baal nel tempio di Baal che edificò in Samaria. Aqab fece anche l'idolo di Astarte. Aqab fece più per provocare a sdegno l'Eterno re Dio di Israele di quello che non avevano fatto tutti i rei di Israele che l'avevano preceduto. Al tempo di lui, i Hel di Beto riedificò Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su. Segub, il più giovane dei suoi figliuoli, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca di Josue, figliuolo di Nun. Primo libro dei re, capitolo dicesettesimo. Elia, il Tish Bita, uno di quelli che s'erano stabiliti in Galaad, disse ad Aqab, come è vero che vive l'Eterno l'Idio di Israele di cui io son servo, non vi sarà né rugiada né pioggia in quest'anni se non alla mia parola. E la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini. Partiti di qua, volgiti verso oriente e nasconditi presso al torrente Kerit che è di rimpetto al Giordano. Tu berrai al torrente ed io ho comandato ai corvi che ti dian quivi da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola dell'Eterno andò e si stabilì presso il torrente Kerit che è di rimpetto al Giordano. E i corvi li portavano del pane e della carne la mattina e del pane della carne la sera e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu rivolta in questi termini Levati va a Serapta de Sidoni e fa quivi la tua dimora ecco io ho ordinato con la auduna vedova che ti dia da mangiare. Egli dunque si levò e andò a Serapta e come giunse alla porta della città ecco quivi una donna vedova che raccoglieva delle legna egli la chiamò e le disse ti prego vammi a cercare un po' d'acqua ed un vaso affinché io beva e mentre l'andava a prenderne egli le gridò dietro portami ti prego anche un pezzo di pane ed ella rispose come vero che vive l'Eterno il tuo Dio del pane non ne ho ma ho solo una manata di farina in un vaso e un po' d'olio in un ricciolo ed ecco sto raccogliendo due stecchi per andare a cuocerla per me e per mio figliuolo e la mangeremo e poi morremo e lì alle disse non temere va e fa come tu hai detto ma fanne prima una piccola stacciata per me e portemela poi ne farai per te e per il tuo figliuolo poiché così dice l'Eterno l'Idio Dio di Israele il vaso della farina non si esaurirà e l'oricciolo dell'olio non calerà fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra ed ella andò e fece come le aveva detto Elia ed essa la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo il vaso della farina non si esaurì e l'oricciolo dell'olio non calò secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca ad Elia or dopo queste cose avvenne che il figliuolo di quella donna che era la padrona di casa si ammalò e la sua malattia fu così grave che non gli rimase più soffio di vita allora la donna disse ad Elia che ho io mai da far teco uomo di Dio sei tu venuto da me per rinnovare la memoria delle mie iniquità e far morire il mio figliuolo e le rispose dammi il tuo figliuolo e lo prese dal seno di lei e lo portò su nella camera dove gli albergava e lo coricò sul suo letto poi invocò l'Eterno e disse o Eterno il Dio mio colpisci tu di sventura anche questa vedova della quale io sono ospite facendole morire il figliuolo si distese quindi tre volte sul fanciullo ed invocò l'Eterno dicendo o Eterno il Dio mio torni ti prego l'anima di questo fanciullo in lui e l'Eterno esaudì la voce d'Elia e l'anima del fanciullo tornò in lui ed ei fu reso alla vita ed Elia prese il fanciullo lo portò giù dalla camera al pian terreno della casa e lo rimise a sua madre dicendole guarda il tuo figliuolo è vivo allora la donna disse ad Elia ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola dell'Eterno che è nella tua bocca è verità primo libro dei re capitolo diciottesimo molto tempo dopo nel corso del terzo anno la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia in questi termini va presentiti ad Acab e io manderò la pioggia sul paese ed Elia andò a presentarsi ad Acab or la carestia era grave in Samaria e Acab mandò a chiamare Abdiah che era il suo maggiordomo or Abdiah era molto timorato dell'Eterno e quando Isabel sterminava i profeti dell'Eterno Abdiah aveva preso cento profeti e li aveva nascosti cinquanta in una e cinquanta in un'altra spelonca e li aveva sostenuti con del pane e dell'acqua e Acab disse ad Abdiah va per il paese verso tutte le sorgenti e tutti i ruscelli forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli e non avremo bisogno di uccidere parte del bestiame si spartirono dunque il paese da percorrere Acab andò da sé da una parte e Abdiah da sé dall'altra e mentre Abdiah era in viaggio ecco far disincontro Elia e Abdiah avendolo riconosciuto si prostrò con la faccia a terra e disse sei tu il mio signore Elia quelli rispose sono io va a dire al tuo signore ecco qua Elia ma Abdiah replicò che peccato ho io mai commesso che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab perché ei mi faccia morire come è vero che l'eterno il tuo Dio vive non v'è nazione nel regno dove il mio signore non abbia mandato a cercarti e quando gli si diceva e non è qui faceva giurare il regno e la nazione che proprio non t'avevano trovato e ora tu dici va a dire al tuo signore ecco qua Elia succederà che quando io sarò partito da te lo spirito dell'eterno ti trasporterà non so dove ed io andrò a fare l'ambasciata da Acab ed egli non trovandoti mi ucciderà eppure il tuo servo teme l'eterno fin dalla sua giovinezza non hanno riferito al mio signore quello che io feci quando Isabella uccideva i profeti dell'eterno come non nascosi cento uomini di quei profeti dell'eterno cinquanta in una e cinquanta in un'altra spelonca e li sostentai con del pane e dell'acqua e tu ora dici va a dire al tuo signore ecco qua Elia egli mi ucciderà ed Elia rispose come è vero che vive l'eterno degli eserciti di cui sono servo oggi mi presenterò ad Aqab Abdiah dunque andò a trovare Aqab e gli riferì l'ambasciata e Aqab andò incontro ad Elia e non appena Aqab tuo padre perché avete abbandonato i comandamenti dell'eterno e tu sei andato dietro ai Baali manda ora a far radunare tutto Israele presso di me sul monte Carmel insieme ai quattrocentocinquanta profeti di Baal e a quattrocento profeti da starte che mangiano alla mensa di Isabel e Aqab mandò a chiamare tutti i figlioli di Israele e radunò quei profeti sul monte Carmel allora Elia si accostò a tutto il popolo e disse fino a quando zoppicherete voi da due lati se l'eterno è Dio seguitelo se poi lo è Baal seguite lui il popolo non gli rispose verbo allora Elia disse al popolo son rimasto io solo dei profeti dell'eterno mentre i profeti di Baal sono in quattrocentocinquanta ci siano dunque dati due giovenchi quelli che seguono Baal e scelgono uno per loro lo facciano a pezzi lo mettano sulle legna sappiccavi il fuoco ed io pure preparerò l'altro giovenco lo metterò sulle legna e non vappiccherò il fuoco quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome dell'eterno e il Dio che risponderà mediante il fuoco egli sia Dio tutto il popolo rispose e disse ben detto allora Elia disse ai profeti di Baal sceglietevi uno dei giovenchi preparatelo i primi già che siete i più numerosi e invocate il vostro Dio ma non appiccate il fuoco e quelli presero il giovenco che fu dato loro lo prepararono poi invocarono il nome di Baal dalla mattina fino al mezzodì dicendo o Baal rispondici ma non sudì né voce né risposta e saltavano intorno all'altare che avevano fatto e a mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro e a dire gridate più forte poiché egli è un Dio che sta meditando o forse è andato in viaggio o è in disparte o forse dorme e si risveglierà e quelli si misero a gridare a gran voce e a farsi delle incisioni addosso secondo il loro costume con delle spade delle picche finché grondavano sangue e passato che fu il mezzogiorno quelli profetarono fino all'ora in cui si offriva l'oblazione senza che si udisse voce o risposta o ci fosse chiedesse loro retta allora Elia disse a tutto il popolo accostatevi a me e tutto il popolo si accostò a lui ed Elia restaurò l'altare dell'eterno che era stato demolito poi prese dodici pietre secondo il numero delle tribù dei figlioli di Giacobbe al quale l'eterno aveva detto il tuo nome sarà Israele e con quelle pietre edificò un altare al nome dell'eterno e fece intorno all'altare un fosso della capacità di due misure di grano poi vi accomodò le legna fece a pezzi il giovenco lo pose sopra la legna e disse empite quattro vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulle legna e di nuovo disse fatelo una seconda volta e quelli lo fecero una seconda volta e disse ancora fatelo per la terza volta e quelli lo fecero per la terza volta l'acqua correva attorno all'altare ed egli empì d'acqua anche il fosso e sull'ora in cui soffriva l'oblazione il profeta Elia si avvicinò e disse o eterno Dio di Abramo di Isacco e di Israele fa che oggi si conosca che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo rispondimi o eterno rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu o eterno sei Dio e che tu sei quelli che converte il cuor loro allora cadde il fuoco dell'eterno e consumò l'olocausto le legna le pietre la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso tutto il popolo veduto sciosi gettò con la faccia a terra e disse l'eterno è Dio l'eterno è Dio ed Elia disse loro pigliate i profeti di Baal neppure uno ne scapi quelli li pigliarono ed Elia li fece scendere al torrente chison e qui vi li scannò poi Elia disse ad Acab risali mangia e bevi poiché già so del rumore di gran pioggia ed Acab salì e si mise a mangiare e bere ma Elia ma Elia salì in vetta al Carmel e gettato si a terra si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo or va su e guarda dalla parte del mare quelli andò su guardò e disse non ve nulla Elia gli disse ritornaci sette volte e la settima volta il suo servo disse ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare ed Elia salì e dì ad Acab attacca i cavalli al carro e scendi che la pioggia non ti fermi e in un momento il cielo si oscurò di nubi il vento si scatenò e cadde una gran pioggia Acab montò sul suo carro e se ne andò a Isriol e la mano dell'Eterno fu sopra Elia il quale cinto si fianchi corse innanzi ad Acab fino all'ingresso di Isriol primo libro dei re capitolo diciannovesimo Or Acab raccontò a Isabel tutto quello che Elia aveva fatto e come aveva ucciso di spada tutti i profeti allora Isabel spedì un messo ad Elia per dirgli gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quello che tu hai fatto della vita ad ognuno di quelli Elia vedendo questo si levò e se ne andò per salvarsi la vita giunse a Beershiba che appartiene a Giuda e vi lasciò il suo servo ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra ed espressi il desiderio di morire dicendo basta prendi ora o eterno l'anima mia poiché io non valgo meglio dei miei padri poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra quando ecco che un angelo lo toccò e gli disse alzati e mangia egli guardò e vide presso il suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua egli mangiò e beve poi si coricò di nuovo e l'angelo dell'eterno tornò la seconda volta lo toccò e gli disse alzati mangia poiché il cammino è troppo lungo per te egli salzò mangiò e beve e per la forza che quel cibo gli dette camminò quaranta giorni e quaranta notte fino a Orreb il monte di Dio e qui vi entrò in una spelonca e vi passò la notte ed ecco gli fu rivolta la parola dell'eterno in questi termini che fai tu qui Elia egli rispose io sono stato mosso da una gran gelosia per l'eterno per l'idio degli eserciti perché i figliuoli di Israele hanno abbandonato il tuo patto hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita e Dio gli disse esci fuori e fermati sul monte dinanzi all'eterno ed ecco passava l'eterno un vento forte impetuoso schiantava i monti e spezzava le rocche dinanzi all'eterno ma l'eterno non era nel vento e dopo il vento un terremoto ma l'eterno non era nel terremoto e dopo il terremoto un fuoco ma l'eterno non era nel fuoco e dopo il fuoco un suono dolce e sommesso come lì l'ebbe udito si coperse il volto col mantello uscì fuori e si fermò all'ingresso della spelonca ed ecco che una voce giunse fino a lui e gli disse che fai tu qui Elia ed egli rispose io sono stato mosso da una gran gelosia per l'eterno per l'iddio degli eserciti perché i figlioli di Israele hanno abbandonato i tuoi patti hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita e l'eterno gli disse va rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando sarai giunto colà ungerai Azahel come re di Siria ungerai pure Jehu figliolo di Mimshi come re di Israele e ungerai Eliseo figliolo di Shaffat da Abel Mechola come profeta in luogo tuo e avverrà che chi sarà scampato dalla spada di Azahel sarà ucciso da Jehu e chi sarà scampato dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo ma io lascerò in Israele un resto di sette mila uomini tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato dinanzi a Bar e la cui bocca non l'ha basciato Elia si partì di là e trovò Eliseo figliolo di Shaffat il quale arava avendo dodici paia di buoi davanti a sé ed egli stesso guidava al dodicesimo paio Elia avvicinandosi a lui gli gettò addosso il suo mantello ed Eliseo lasciati i buoi corse dietro ad Elia e disse ti prego lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò e lei gli disse va e torna ma pensa a quel che t'ho fatto e dopo essersi allontanato da Elia Elisea tornò a prendere un paio di bovi e le offrì in sacrificio come assieme con le legna degli arnessi dei buoi ne cosse le carni e le diede alla gente che le mangiò poi si levò seguì Elia e si mise al suo servizio primo libro dei re capitolo ventesimo or Benadad re di Siria radunò tutto il suo esercito aveva secolo trentadue re cavalli e carri poi salì cinse d'assedio Samaria e l'attaccò e inviò dei messi nella città che dicessero ad Acab re di Israele così dice Benadad il tuo argento e il tuo oro sono miei così pure le tue mogli e i figlioli tuoi più belli sono cosa mia e il re di Israele rispose come dici tu o re signor mio io son tuo con tutte le cose mie i messi tornarono di nuovo e dissero così parla Benadad io t'avevo mandato a dire che tu mi dessi il tuo argento ed il tuo oro le tue mogli e i tuoi figlioli invece domani a quest'ora manderò da te i miei servi i quali rovisteranno la casa tua e le case dei tuoi servi e metteranno le mani su tutto quello che hai di più caro e lo porteranno via allora il re di Israele chiamò tutti gli anziani del paese e disse guardatevi prego e vedete come quest'uomo cerca la nostra rovina perché mi ha mandato a chiedere le mie mogli e i miei figlioli il mio argento e il mio oro e io non gli ho rifiutato nulla e tutti gli anziani e tutto il popolo gli dissero non lo ascoltare e non li accondiscendere Aqab dunque rispose ai messi di Benadad dite al re mio signore tutto quello che facesti dire al tuo servo la prima volta io lo farò ma questo non lo posso fare i messi se ne andarono e portarono la risposta a Benadad e Benadad mandò a dire ad Aqab gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se la polvere di Samaria basterà adempire il pugno di tutta la gente che mi segue il re di Israele rispose diteli così chi ci ingelarmi non si glori come chi le depone quando Benadad ricevette quella risposta era a bere con il re sotto i frascati e disse ai suoi servi disponetevi in ordine e quelli si disposero ad attaccare la città quando ecco un profeta si accostò ad Aqab il re di Israele disse così dice l'Eterno vedi tu questa gran moltitudine ecco oggi io la darò in tuo potere e tu saprai che io sono l'Eterno Aqab disse per mezzo di chi e quelli rispose così dice l'Eterno per mezzo dei servi dei capi delle province Aqab riprese chi comincerà la battaglia l'altro rispose tu allora Aqab fece la rassegna dei suoi servi dei capi delle province ed erano 232 e dopo questi fece la rassegna di tutto il popolo di tutti i figlioli di Israele ed erano 7000 e fecero una sortita sul mezzogiorno mentre Benadà stava a bere ad ubriacarsi sotto i frascati coi 32 re venuti in suo aiuto i servi dei capi delle province uscirono fuori i primi Benadà mandò a vedere e gli fu riferito e uscito gente di Samaria il re disse se sono usciti per la pace pigliateli vivi se sono usciti per la guerra e vivi pigliateli e quando quei servi dei capi delle province e l'esercito che li seguiva furono usciti dalle città ciascuno di quelli uccise il suo uomo i siri si dettero alla fuga e gli israeliti li inseguirono e Benadà re di Siria scampò a cavallo con alcuni cavalieri il re di Israele uscì anche egli mise in rotta cavalli e carri e fece una grande strage fra i siri allora il profeta si avvicinò al re di Israele e gli disse va rinforzati considera bene quel che dovrai fare perché di qui ad un anno il re di Siria salirà contro di te i servi del re di Siria gli dissero gli dei di Israele sono dei di montagna per questo ci hanno vinti ma diamo battaglia in pianura e li vinceremo per certo e tu fa questo leva ognuno di quei re dal suo luogo e metti al posto loro dei capitani formati quindi un esercito pari a quello che è perduto con altrettanti cavalli e altrettanti carri poi daremo battaglia a costoro in pianura e li vinceremo per certo egli accettò il loro consiglio e fece così l'anno seguente Benadat fece la rassegna dei siri e salì verso Affek per combattere con Israele anche i figliuoli di Israele furono passati in rassegna e provveduti di viveri quindi mossero contro i siri e si accamparono di rimpeto a loro parevano due minuscoli greggi di capre di fronte ai siri che inondavano il paese allora l'uomo di Dio si avvicinò al re di Israele e gli disse così dice l'Eterno già che i siri hanno detto l'Eterno è Dio dei monti e non è Dio delle valli io ti darò nelle mani tutta questa gran moltitudine voi conoscerete che io sono l'Eterno e sterminerò accampati gli uni di fronte e gli altri per sette giorni il settimo giorno impegnerò la battaglia e i figlioli di Israele uccisero dei siri in un giorno centomila pedoni il rimanente si rifugiò nelle città di Afek dove le mure caddero sui ventisettimila uomini che erano arrestati anche benadatto oggi è giunto nelle città cercava rifugio di camera in camera i suoi servi gli dissero ecco abbiamo sentito dire che i re della casa di Israele sono dei re clementi lascia dunque che ci mettiamo dei sacchi sui fianchi e delle corde al collo ed usciamo incontro al re di Israele forse egli ti salverà la vita così essi si misero dei sacchi intorno ai fianchi e delle corde al collo e andarono dal re di Israele e dissero il tuo servo benadà dice ti prego lasciami la vita Acab rispose è ancora vivo egli è mio fratello la qualcosa presero quegli uomini per buon augurio e subito volero accettarsi se quello era proprio il suo sentimento e gli dissero benadà è dunque tuo fratello egli rispose andate e conducetemelo qua benadà si recò da Acab il quale lo fece salire sul suo carro e benadà gli disse io ti restituirò le città che mio padre tolse al padre tuo e tu ti stabilirai delle vie in Damasco come mio padre se n'era stabilita in Samaria ed io riprese Acab con questo patto ti lascerò andare così Acab fermò il patto con lui e lo lasciò andare allora uno dei figliuoli dei profeti disse per ordine dell'eterno al suo compagno ti prego percuotimi ma quelli non volle percuoterlo allora il primo gli disse poiché tu non hai ubbidito alla voce dell'eterno ecco non appena sarai partito da me un leone ti ucciderà e non appena quelli si fu partito da lui un leone lo incontrò e l'uccise poi quel profeta trovò un altro uomo e gli disse ti prego percuotimi e quello lo percosse e lo ferì allora il profeta andò ad aspettare il re sulla strada e cangiò il suo aspetto mettendosi una benda sugli occhi e come il re passava egli si mise a gridare e disse al re il tuo servo si trovava in piena battaglia quando ecco uno si avvicina mi mena un uomo e mi dice custodisci quest'uomo se mai venissi a mancare la tua vita pagherà per la sua ovvero pagherai un talento d'argento e mentre il tuo servo era occupato qua e là quell'uomo sparì il re di israele gli disse quella è la tua sentenza l'hai pronunziata da te stesso allora quelli si tolse immediatamente la benda dagli occhi e il re di israele lo riconobbe per uno dei profeti e il profeta disse al re così dice l'eterno giacché ti sei lasciato sfuggire di mano l'uomo che io avevo votato allo sterminio la tua vita pagherà per la sua e il tuo popolo per il suo popolo e il re di israele se ne tornò a casa sua triste ed irritato e si recò a samaria primo libro dei re capitolo ventunesimo or dopo queste cose avvenne che Nabot l'israel aveva in israel una vigna presso il palazzo di Aqab re di samaria ed Aqab parlò a Nabot e gli disse dammi la tua vigna di cui vuoi farmi un orto di erbagi perché è contigua la mia casa e in sua vece ti darò una vigna migliore o se meglio ti conviene te ne pagherò il valore in denaro ma Nabot rispose ad Aqab mi guardi l'eterno dal darti l'eredità dei miei padri e Aqab se ne tornò a casa sua triste ed irritato per quella parola detta gli da Nabot di israel io non ti darò l'eredità dei miei padri si gettò sul suo letto voltò la faccia verso il muro e non prese cibo allora Isabel sua moglie venne da lui e gli disse perché hai lo spirito così contristato e non mangi quelli le rispose perché ho parlato a Nabot Israel e gli ho detto dammi la tua vigna per denaro che vale o se più ti piace ti darò un'altra vigna invece di quella ed egli mi ha risposto io non ti darò la mia vigna e Isabel sua moglie gli disse sei tu sì o no che eserciti la sovranità sopra Israele alzati prendi cibo e sta di buon animo la vigna di Nabot di Israele te la farò avere io e scrisse delle lettere a nome di Aqab e sigillò col sigillo di lui e le mandò agli anziani ed annotabili della città di Nabot che abitavano assieme con lui e in quelle lettere scrisse così bandite un digiuno e fate sedere Nabot in prima fila davanti al popolo e metteteli in fronte due scellerati i quali depongano contro di lui dicendo tu hai maledetto l'iddio e il re poi menatelo fuori di città lapidatelo e così muoia la gente della città di Nabot gli anziani notabili che abitavano nelle città fecero come Isabel aveva loro fatto dire secondo che era scritto nelle lettere che l'aveva loro mandate e bandirono il digiuno e fecero sedere Nabot davanti al popolo i due scellerati vennero a metterli sia a fronte e quelli scellerati deposero così contro di lui dinanzi al popolo Nabot ha maledetto il dio ed il re per la qualcosa lo menarono fuori della città lo lapidarono sì che egli morì poi mandarono a dire a Isabel Nabot è stato lapidato ed è morto quando Isabel ebbe udito che Nabot era stato lapidato ed era morto disse Adacab levati prendi possesso della vigna di Nabot Israele che gli rifiutò di darti per denaro giacché Nabot non vive più è morto e come Acab ebbe udito che Nabot era morto si levò per scendere alla vigna di Nabot Israele e prenderne possesso allora la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia il tiscibita in questi termini levati scendi incontro ad Acab ed Israele che sta in Samaria ecco egli è nella vigna di Nabot dove è sceso per prenderne possesso e gli parlerai in questo modo così dice l'Eterno dopo aver commesso un omicidio vieni a prender possesso e gli dirai così dice l'Eterno nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot i cani leccheranno pure il tuo proprio sangue Acab disse ad Elia mai tu trovato nemico mio Elia rispose sì t'ho trovato perché ti sei venduto a far ciò che è male agli occhi dell'Eterno ecco io ti farò venire addosso la sciagura ti spazzero via e sterminerò dalla casa di Acab ogni maschio schiavo libero che sia in Israele e ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo figliolo di Nebat e come la casa di Baasa figliolo di Ahija perché tu mai provocato ad Ira ed hai fatto peccare Israele anche riguardo a Isabel Eterno parla e dice i cani divoreranno Isabel sotto le mure di Israele quei da Acab che morranno in città saranno divorati dai cani e quei che morranno nei campi saranno mangiati dagli uccelli del cielo e veramente non ve' mai stato alcuno che come Acab si sia venduto a far ciò che è male agli occhi dell'Eterno perché ve' restigato da sua moglie Isabel e si condusse in modo abominevole andando dietro agli idoli come avevano fatto gli amorei che l'Eterno aveva cacciati dinanzi ai figlioli di Israele quando Acab ebbe udite queste parole si stracciò le vesti si coperse il corpo con un sacco e digiunò dormiva involto nel sacco e camminava a passo lento e la parola dell'Eterno fu rivolta ad Elia e il Tishibita in questi termini hai tu veduto come Acab si è umiliato dinanzi a me poiché egli si è umiliato dinanzi a me io non farò venire la sciagura mentre egli sarà vivo ma manderò la sciagura sulla sua casa durante la vita del suo figliolo primo libro dei re capitolo ventiduesimo passarono tre anni senza guerra fra la Siria e Israele ma il terzo anno Giosafato e di Giuda scese a trovare il re di Israele or il re di Israele aveva detto ai suoi servi non sapete voi che Ramot di Galahad è nostra e noi ce ne stiamo qui tranquilli senza levarla di mano al re di Siria e disse a Giosafat vuoi venire con me alla guerra contro Ramot di Galahad e Giosafat rispose al re di Israele fa conto di me come di te stesso della mia gente come della tua dei miei cavalli come dei tuoi e Giosafat disse al re di Israele ti prego consulta oggi la parola dell'Eterno allora il re di Israele radunò i profeti in numero di circa quattrocento e disse loro debbo io andare a far guerra a Ramot di Galahad o no? quelli risposero va e il signore la darà nelle mani del re ma Giosafat disse non va egli qui alcun altro profeta dell'Eterno da poter consultare e il re di Israele rispose a Giosafat ve ancora un uomo per mezzo del quale si potrebbe consultare l'Eterno ma io l'odio perché non mi predice mai nulla di buono ma soltanto del male è Micaiah figliolo di Imla e Giosafat disse non dica così il re e allora il re di Israele chiamò un enucco e gli disse fa venire presto Micaiah figliolo di Imla or il re di Israele e Giosafat re di Giuda sedevano ciascuno sul suo trono vestiti dei loro abiti reali nell'aia che è all'ingresso della porta di Samaria e tutti i profeti provetavano dinanzi ad essi sedachia figliolo di Kenana s'era fatto delle corna di ferro e disse così dice l'eterno con queste corna di cozzo nei siri finché tu li abbia completamente distrutti e tutti i profeti profetavano nello stesso modo dicendo sali contro il ramo di Galahad e vincerai l'eterno te la darà nelle mani del re ora il messo che era andato a chiamare Micaiah gli parlò così ecco i profeti tutti ad una voce predicono del bene al re ti prego sia il tuo parlare come il parlare d'ognun dessi e predici del bene ma Micaiah risponde come è vero che l'eterno vive io dirò quel che l'eterno mi dirà e come fu giunto dinanzi al re il re gli disse Micaiah dobbiamo noi andare a far guerra a ramo di Galahad o no questi rispose va pure tu vincerai l'eterno e le darà nelle mani del re e il re gli dice quante volte dovrò io scongiurarti di non dirmi se non la verità nel nome dell'eterno Micaiah rispose ho veduto tutto Israele disperso su per i monti come pecore che non hanno pastore e l'eterno ha detto questa gente non ha padrone se ne torni ciascuno in pace a casa sua e il re di Israele disse a Giosafat non te l'ho io detto che costui non mi predirebbe nulla di buono ma soltanto del male e Micaiah replicò perciò ascolta la parola l'eterno io ho veduto l'eterno che sedeva sul suo trono e tutto l'esercito del cielo che gli stava da presso a destra e a sinistra e l'eterno disse chi sedurrà affinché salga a ramotti galahad e vi perisca e uno rispose in un modo e l'anno un altro ora si fece avanti uno spirito il quale si sentò dinnanzi all'eterno e disse lo sedurrò io e l'eterno gli disse e come quelli rispose io uscirò e sarò spirito di menzogna in bocca a tutti i suoi profeti l'eterno gli disse sì riuscirai a solo esci e fa così ed ora ecco che l'eterno ha uno spirito di menzogna in bocca a tutti questi tuoi profeti ma l'eterno ha pronunziato del male contro di te allora Sedakia figliolo di Kenanna si accostò diede uno schiaffo a Micaiah e disse per dove è passato lo spirito dell'eterno quando è uscito da me per parlare a te Micaiah rispose lo vedrai il giorno che andrai di camera in camera per nasconderti e il re di Israele disse a uno dei suoi servi prendi Micaiah menolo da mon governatore della città da Joas figliolo del re così dice il re mettete costui in prigione nutritelo di pane d'afflizione e d'acqua d'afflizione finchitorni sano e svo e Micaiah disse se tu ritorni sano e salvo non sarà l'eterno quelli che avrà parlato per bocca mia raggiunse udite questo o voi pop tutti il re di Israele e Giosafat il re di Suda saliron dunque contro Ramoth di Gala e il re Israele disse a Giosafat io mi travestirò per andare in battaglia ma tu mettiti i tuoi abili reali e il re di Israele si travestì in battaglia or il re di Siria aveva questo capitano dei suoi carri non combattete contro uno o piccolo grande ma contro il solo re di Israele e quando i capitani dei carri scorsero Giosafat di certo quello era il re di Israele e si volsero contro di lui per attaccarlo ma Giosafat manung e allora i capitani si accorsero che egli non era il re di Israele e cessarono di dargli addosso or qualcuno scoccò a casa la fretta del suo arco e ferì il re di Israele tra la cazza e le fatture o il re disse al suo cocchiere una volta menami fuori del campo perché sono ferito ma la battaglia cos'è accanita quel giorno che il re fu tenuto sul suo carro in faccia ai simili e morì verso il sangue della sua ferita era collato sul foglio del campo e come il sole tramontava un grido forse per tutto il campo ognuno alla sua città ognuno al suo paese così il re morì e fu portato l'aria in l'aria fu scolto e quando si lavò il carro presso al stagno di samaria in quell'acqua si lavavano le prostitute e i cani leccarono il sangue di acab secondo la parola che l'eterno aveva pronunziata ora il resto delle azioni di acab tutto quello che fece la casa d'avorio che costruì e tutti i tacchi edificò tutto questo scritto nel libro delle cronache dei re di israele così acab si addormentò con i suoi padri e acazzia suo figliuolo regnò in luogo suo giosafat figliuolo di asa cominciò a regnare sopra giuda all'anno quarto di acab re di israele giosafat aveva tre cinque anni quando cominciò a regnare regnò venticinque anni a gerusalemme il nome di sua madre era zuba figliuolo di shili egli camminò in tutto per le vie di asa suo padre e non se ne allontanò facendo ciò che è giusto agli occhi dell'eterno non di meno gli alti luoghi non scomparvero il popolo offriva ancora sacrifici e profumi sugli alti luoghi e giosafat visse in pace con il re di israele ora il resto delle azioni di giosafat le prodezze che fece le sue guerre sono cose scritte nel libro delle cronache dei re di giuda egli fece sparire dal paese gli avanzi degli uomini che si prostituivano che verano rimasti dal tempo di asa suo padre ora a quel tempo non vera re in edom un governatore fungeva da re giosafat costruì delle navi di tarsis per andare a offrire in cerca d'oro ma poi non andò perché le navi naufragarono a etizion ghebar allora e cazia figliuolo di akab disse giosafat lascia che i miei servi vadano coi servi tuoi sulle navi ma giosafat non volle e giosafat si addormentò coi suoi padri e con essi fu sepolto nella città di davide suo padre e georam suo figliuolo regnò in luogo suo a cazia figliuolo di akab cominciò a regnare sopra israele a samaria l'anno diciassettesimo di giosafat re di giuda e regnò due anni sopra israele e fece ciò che è male agli occhi dell'eterno e camminò per la via di suo padre per la via di sua madre e per la via di geroboamo figliuolo di nebat che aveva fatto peccare israele e servì a bar si prostrò dinanzi a lui e provocò al sdegno l'eterno l'idio di israele esattamente come aveva fatto suo padre